quest'estate si viaggia normale vero dove in europa fuori dall europa la risposta giusta in nico ma quest'estate è definita fino a fine settembre diciamo no secondo me no cioè fuori dall'europa rimane questo protocollo qui della quarantena praticamente sì anche le varianti nuove ma anche in europa stanno facendo pochi corridoi cosiddetti turistici pochi e confusi perché comunque non non c'è ogni paese anche se fai parte dell'europa ogni paese fa per conto suo quindi si inventeranno tante regole confuse l'anno scorso tipo com'era cioè l'anno scorso si viaggiava in estate in europa in europa in teoria l'italia no cioè un italiano doveva comunque fare tamponi quarantene quest'anno se se magari a maggio giugno usciranno delle regole un pochino più chiare adesso parlavano del green pass che dopo due settimane ne hanno parlato e hanno smesso poi di hanno capito che era un po un casino cioè quello che ti permetteva di viaggiare seri o vaccinato o immune o hai fatto o avevi il tampone nelle 48 ore a ok ok giusto ok però di fatto l'avevano messo in piedi come il passaporto europeo per contro contro il covid ma dopo due settimane ho letto che non è andata ma come tutte le iniziative che in europa sono difficili da portare avanti per mettere d'accordo tutti ma infatti ce ne parlavamo io sempre noi il problema nostro è che siamo viviamo in un continente che fa finta di essere un'unione chiaro dove soprattutto l'anno scorso abbiamo visto che durante la fase più acuta gli stati hanno addirittura hanno chiuso le frontiere gli stati dell'europa tipo anche la germania come dire sì ma l'austria diciamo che sarebbe una forzatura forse per quest'anno decidere di partire per l'estero nel senso che nonostante nonostante ci sia anche il trattato di shang è stato chiamato in causa anche mi sembra un decreto del 3 di aprile o marzo non ricordo è vero quello che si diceva anche prima quindi non sai neanche quello che può accadere nel momento in cui tu metti poi piede ci accogliamo il caso che sia possibile partire far tutto arrivi lì questo ragazzo qua è partito per forteventura con una legge è rientrato con un'altra legge esatto mi hanno detto a metà vacanza mi hanno detto bene comunque quando torni oltre a fare il tampone prima di partire 48 ti fai la quarantena di cinque giorni per fortuna è un altro tampone così al modico costo di tre tamponi quanto è speso allora il tampone in italia è stato gratuito perché è quello della regione lombardia io l'ho pagato io non l'ho pagato ma no e no e no perché mi hanno obbligato loro mi hanno chiamato di adesso vieni a fare il tampone all'asle no è che l'ha pagato la nostra assistente non hai pagato se vuoi viaggiare devi pagare il tampone non è che te lo paga ho pagato anche l'ultimo quindi ne ho pagati quattro hai capito questo no no si paga io non l'ho pagato io ho pagato 100 250 euro di tamponi ne ho fatti solo due due perché poi ho voluto fare il pcr quello serio avevo paura che poi mi fermassero alla dogana cioè no hai fatto l'antigenico torna indietro quindi ecco quello è un grosso blocco no perché comunque una persona magari viaggia con l'aereo lo costa poter pagare 250 euro di tamponi se non 350 250 si deve andare e fare il terzo come è capitato a lui è foglia pura famiglia bimbi cioè vuol dire che di tamponi si paghi mille euro allora pensate bali indonesi in generale che cara a tutti ci diceva riccardo se ne ero l'altro giorno che ad oggi le regole sono due la prima fai cinque giorni di quarantena e poi puoi entrare nel paese dopo aver fatto tampone eccetera l'altra che paghi un visto per stare due mesi 500 euro visto turistico e prima non si prima c'è 30 dollari 30 dollari adesso senza parlare di europa poi proprio ieri diciamo noi poi siamo positivi di natura certo no siete negativi infatti siamo tutti qua senza mascherina perché noi facciamo sempre questo lo dico perché un protocollo in cui viene un infermiere ci tampona tutti quanti e se qualcuno è positivo non è ancora capito infatti abbiamo pensato fossero finti così da un po in una stagione intera di bazar atomico neanche un tampone profondo tra l'altro molto profondo dicevi no dice dicevo che eravamo insomma spera speranzosi di riaprire per ottobre novembre magari il nepal no perché una delle destinazioni che ho visto nel vostro instagram che dicevate quest'estate si riparte col nepal infatti ero qua anche contestualmente ci hanno fatto una battuta vicenda ieri quando il tempismo è importante arriva una notizia che effettivamente il nepal adesso sta accusando tutto ciò che sta accadendo in india da ieri katman 2 è in completo lockdown ed era mesi che si viveva in libertà e ho visto l'altro ospite dei viaggi che è pellizieni trip therapy lo seguo su instagram e lui è stato un mese fa è stato a katman 2 tutti in giro e purtroppo sono passati questa variante indiana sta un po sputtanando tutta la parte d'asiatica ma infatti per assurdo poi noi ci sentivamo con il nostro fratello amico nepalese e lui per mesi ci prendeva in giro perché lui era libero di fare un po quello che voleva e ci caricava perché il karma lo ha punito scherzi a parte però è una è una brutta notizia perché la verità è che l'estate e per noi l'abbiamo considerata da già da mesi un'estate italiana punto esattamente come l'anno scorso metti lo stacco qua dovete prepararvi proprio più veloce campioni e però l'autunno era era un po la luce in fondo al tunnel perché di fatto ci sono non mi dire così che tu sai benissimo se noi abbiamo una cosa in sospeso sappiamo dobbiamo portare quante persone venti 30 persone in bhutan e bhutan sono tutti resta l'uomo il paese più felice del mondo resta perché sono tutti vaccinate perché sono sono sempre fatti fatti loro hanno chiuso tutte le frontiere fin dall'inizio hanno detto siamo noi siamo tranquilli tra di noi però adesso bisognerà capire che cosa succede anche perché alla fine tutta la fascia in malayana è tutta a butta esatto è tutta compromessa bisogna capire che cosa che cosa faranno sono paesi che hanno anche delle regole del una sanità pubblica un po così sì quindi il controllo di queste di questa nuova ennesima pandemia lo capiremo solo vivendo quindi autunno per noi resta incrociamo le dita sono non faccio vedere le mani perché croci anche altro esatto però se se chiudiamo anche l'autunno come come sembra cambiate lavoro no 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 l'italia voi voi come ecco quest'ultimo anno e mezzo vertical life che ricordo non è solo diciamo l'agenzia il travel della gente così come potete definire perché non è classificabile facilmente tour operator un po banale a me mi ricorda i viaggi di franco rosso guarda noi abbiamo trovato una definizione che però in inglese rende molto in italiano non saprei come outdoor travel company che di fatto è rappresenta quello che siamo noi alla fine siamo legati a servizi outdoor non siamo prettamente un tour operator che organizza viaggi diciamo che prima della destinazione per noi è nata l'attività che poi ha fatto catalogo chiaramente insomma in modo anche abbastanza diffuso quindi l'italia è parlando prima della parte estera noi dobbiamo andarci sicurezza per noi nel senso anche un modo diffuso un po tutti sicurezza e quindi l'italia è una grande certezza l'anno scorso è stata infatti molto interessante tutto l'anno dall'inizio del lockdown in avanti dalla parte depressiva che può nascere in un anno in cui dici ok il nostro le nostre fisce cioè si giocata nel modo più più accurato abbiamo fatto i nostri sacrifici gli ultimi dieci anni quest'anno ci concentriamo sulla crescita lavoriamo e poi succede che arriva la pandemia e dopo una piccola debacle diciamo che ci siamo ritirati le maniche su l'italia avendo sempre puntato noi poi sull'italia davvero diventata una meta che è cresciuta parallelamente anche al concetto che in generale ha preso del turismo attivo e sostenibile il turismo audio sì perché comunque c'è un misto nel senso che avete dovuto chiudere magari tanti viaggi che erano un progetto all'estero però di contro non potete non testimoniare che è cambiato qualcosa cioè già stava cambiando qualcosa nel senso che la moda del via c'era già era nato tant'è che noi da anni collaboriamo con vertical life tutte le money surface experience le facciamo con loro ci troviamo bene eccetera e quindi vabbè perché noi siamo gente un po' avanguardista diciamo che dopo il covid immagino che cazzo sia successo perché non si trovano più le biciclette quest'inverno non si trovano le ciaspole e poi adesso cos'è che non si troverà più non so le barca a vela c'era un po c'è un trend che prende nel caso nel caso invece dell'italia avete guardiero cavalcato bene numeri dell'anno passato nostri sulle tre attività diciamo un po' più importanti che sono trekking mountain bike alpinismo abbiamo fatto un 150 per cento in più di clientele italiane rispetto all'anno precedente sono numeri spaventosi messi nel perché prima venivano più stranieri quasi solo solo no nel senso che prima lalle il trend era positivo perché c'era un si stava un po diffondendo l'idea del di stare in natura perché era lo stress vale per gli italiani come per gli stranieri quindi c'era quel trend lì ma il mercato italiano è sempre stato un mercato molto calmo molto rilassato giustamente e quindi non 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 ci interessavano neanche più di tanto i numeri perché tanto alla fine gli stranieri sono quelli che apprezzano veramente le nostre nostre bellezze e invece poi è cambiato qualcosa l'anno scorso la necessità mente la necessità e no la necessità davvero ha creato proprio ha aperto un portone incredibile anche per creare insieme alle persone interessate le nostre attività una sorta di processo educativo ma proprio per il turismo outdoor quindi abbiamo insegnato infatti quello che stavo dicendo se credo beh chissà quanti parvenuti sarete trovati cioè gente che noi raccontavamo insieme della delle testimonianze di gente che viaggio che operatore del turismo magari delle alpi bergamasca ho sentito l'intervista che c'era gente che non era mai stata in montagna e siccome si poteva andare solo in italia e uno aveva fatto causa la proloco della valla seriana sancaolo perché era caduto un sasso da un sentiero dice adesso io vi denuncio perché non era mai stato in montagna quindi pensava che hai capito quasi aprono due regole temi no sulla sicurezza anche paolo c'è il fatto che di per sé davvero se l'anno scorso dei dati dicono che 27 milioni di italiani hanno fatto un'attività di trekking o comunque hanno camminato che focus fosse un'attività in montagna oppure dei dei cammini no una via francigena cammino materano eccetera è anche vero che il prestapochismo e la poca preparazione non solamente fisica ma anche proprio di strumenti conoscenze ha fatto deviare molto anche verso il turismo organizzato su attività come la nostra diciamo che da quel punto di vista noi abbiamo un po di soddisfazioni ce le siamo tolte soprattutto con il pubblico italiano che di fatto guarda poi alle ai viaggi organizzati come quasi un un minus sì qualcosa per cui non ma io no io non li faccio viaggi organizzati io preferisco da me faccio da me quando di fatto quest'anno nel primo anno di pandemia invece è uscito fuori il motivo per cui fare affidarsi a gente competente serve in più c'è la componente dell'outdoor ossia che non si tratta di un turismo classico si tratta di un turismo che ha a che fare con le ambientazioni dei rischi delle regole di anche di un senso civico anche importante da mantenere cose che nel turismo vecchia maniera era capitato qualche episodio strano durante questa battesimo di fuoco degli italiani che finalmente sono usciti dal villaggio valuta parete quello che è venuto in montagna con la mascherina il tubo le pinde no no quelle non fino a quel livello anche se comunque c'erano quasi però anche sanitario minimamente salita camminata ghiacciava monte bianco che abbiamo comunque insieme così anche dato assistenza sembra un diabetico diciamo che ci sono state tante una cosa è una me la ricordo in però in in positivo perché si trattava di un cliente che aveva prenotato un viaggio in nepal ai tempi pre pandemico quindi era un viaggio anche importante era un trek in campo base o qualcosa del genere e ha trasformato abbiamo congelato la sua prenotazione come tutte le altre e dopo un po lui ha diciamo che ha capito che forse anziché aspettare la riapertura del nepal potrebbe aver senso girarsi e guardare le alpi e vedere quante cose poteva fare prima di un viaggio in nepal e lì ti ci siamo resi conto almeno io mi sono reso conto con una telefonata che poi ho fatto con lui che che di fatto prima della pandemia andare in nepal era un era veramente un po una un modo per esagerare nonostante noi qui in italia abbiamo le alpi che sono dopo il nepal dopo l'himalaya sono la catena montosa per eccellenza dove è nato l'alpinismo molte persone vanno in nepal e non sanno neanche che cos'è dove il monte bianco dove il quindi lì ci siamo resi conto in positivo che molte persone con visto che avevano anche tempo in più per pensare per progettare hanno iniziato a guardare le alpi hanno iniziato a fare dei 4000 hanno iniziato fare un alpinismo di base che gli servirà per arrivare in nepal con noi abitiamo nel comasco a como e ci hanno detto che da dopo l'anno scorso i milanesi hanno già avevano scoperte le pre le pre alpi però le hanno scoperte ancora di più ma non solo dal nostra parte anche nella parte dell'ecchese di là e vanno a rubare seconde case cioè come se gli italiani si fossero ricordati esatto ma dietro casa c'ho delle figate pazzesche io me ne andavo chissà dove e c'avevo già pronto è tutto colpa dei viaggi low cost certo vuoi andare la costa poco esotico fafico e poi la mente incide colpa viaggi low cost che poi sono il frutto del consumismo anche nel turismo c'era ma certo consumismo sfrenato e poi è possibile secondo voi anche il fatto di dire vuoi mettere se taggo bora bora e se invece taggo l'isola dei sedelli cioè è diverso poi voglio dire taggare curmoyer non è che fa schifo anzi anche più che curmoyer proprio punter bronner o il ghiaccio del monte bianco è un bel tag a livello naturalistico siamo davvero ma non solo naturalistico è ridondante dire questa cosa dell'italia tra italiani però in realtà è così e non ce ne rendiamo conto c'è ma voi anche voi vi siete dovuti sforzare a trovare delle location che prima non proponevate avete tirato fuori dal cilindro roba allora diciamo questo diciamo che noi il giorno in cui avevamo ormai sei anni fa quando abbiamo aperto sì avevamo il classico codice a teco da inserire con il notaio davanti che ci chiedeva le cose e alla fine l'idea di di fare viaggi per il mondo ma anche di valorizzare l'italia era una cosa per noi sempre stata importante perché alla fine poi si nasceva anche dall'associazione sportiva nel 2009 quindi l'abbiamo mantenuta abbiamo mantenuto quella quell'aspetto lì nonostante qualsiasi modello di business dicesse il contrario sia se vuoi fare mondo magari concentrati sul mondo perché già creare un catalogo mondo non è facile però poi noi come come per la nostra natura nel senso che poi alla fine siamo una rete di tante collaborazioni professionisti alla fine non volevamo abbandonare l'italia in nessun modo anzi ci sarebbe piaciuto quasi crearne un altro e quindi abbiamo mantenuto entrambe le realtà vive le vetrine i cataloghi erano comunque vivi entrambi e quali sono quelle che la gente ha scoperto è la cosa allucinante che appunto adesso scoprono faccio un esempio banale tra valle d'aosta e piemonte quante vallate ci sono ci saranno abbiamo sette in piemonte 15 sul numero però ma anche di più sette in piemonte più 3 o 4 in valle d'aosta così di 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 importanti già solo ricevere un tot di richieste per ogni itinerario per ogni vallata per noi era era impossibile da un'italia vedere che il mercato italiano si interessasse alla alla valpellice o alla non lo so a valli che veramente sono bella valmaira cioè valmaira ha sfondato già da valmaira per i tedeschi è un esempio perché però perché la cosa assurda che la valmaira è un esempio di quanto gli italiani siano se la siano fatta siano un po sfuggire perché è stata praticamente messa a posto dai tedeschi non sono le vie sono le vie in tedesco veramente si si stiamo parlando di una vallata in piemonte lato andando verso le alpi marittime vicino alla germania un po prima del cuneese prima delle langhe diciamo tra la valle po e la zona del cuneese ed è ed è una valle bellissima per mille motivi perché anche ma dove sei andato tu a fare a lavorare è lì vicino e io sono in val di gesso per esempio anche la val di gesso valestura prima di noi chi se la cagava cioè prima della pandemia gli italiani a val di gesso e ma al maire a cos'è che c'è di bello al maire alle correnti valmaira intanto ha una un aspetto me la segna una delle rocce dolomitiche bellissime che quindi caratterizzano il territorio un po come è un po come se fosse il trentino in piemonte quindi ha delle 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 molto instagrammabile diciamo esatto bravissimo soprattutto quello eccola eccola e poi è questo da fare skateboard ragazzi e poi molto into the wild nel senso che abbandonata un po è stata per anni abbandonata al al un po isolata dal resto anche perché di fatto dagli anni 80 le montagne le le vallate sono sempre poi il problema dei questi luoghi è la la mancanza poi di persone che siano in grado di essere residenti lì e di continuare a far evolvere anche piccoli villaggi tant'è vero che adesso il piatto tipico il buster esatto ma niente che l'esempio di questa valmaira è che poi a certo punto i tedeschi hanno detto qua non c'è nessuno è il nuovo è il come è stato il chianti per gli inglesi chianti sciale però è stato un po un po troppo invasivo hanno esagerato un po nel senso che hanno esagerato togliere le vie in italiano e metterle soltanto in tedesco eppure lì è perché proprio rimasti a cent'anni fa più o meno italiani se ne sono comunque largamente la verità che la valmaira è bella è molto bella c'è una parte naturalistica che è superimpattante ma che nel contempo i tedeschi sono stati bravi a mettere in piedi un sistema turistico organizzato proprio sul territorio che permettesse in modo molto fluido di godere della destinazione cosa che hanno fatto loro 15 anni fa lì e che già pre pandemia ma soprattutto c'è stato un boost dopo marzo dell'anno passato anche noi in qualche modo abbiamo abbiamo cercato di rimettere in atto in piedi e alla fine più o meno quello che stiamo facendo un po in modo trasversale su tutto il nord ovest abbiamo anche ricevuto come primi tratturo per letto il marchio di qualità dal parco nazi del gran paradiso dove insieme a loro abbiamo proprio scritto anche un disciplinare che in qualche modo cerchi di regolamentare quello che sono i flussi turistici ma mantena mantenendo anche l'occhio molto fisso su ciò che la sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale perché se tu riesci a lavorare con gli operatori del territorio la ricaduta economica che non c'è stata certamente in Balmaira perché è andato ai tedeschi è andato ai tedeschi invece in questo caso noi facendo rete sul territorio insieme agli operatori del territorio che siano artigiani che sia agroalimentare che siano guide del posto in qualche modo riusciamo a ottenere il risultato di avere delle proposte che sono sicuramente quelle più performanti e dall'altro lato di far lavorare anche la comunità fare un po di fatturato visto che so che vi piace tenerlo in italia fatturare esatto e voi siete una vera bicorpa anche se non avete il timbro veramente ci stiamo arrivando anche quello bravi con travel life faremo un po' di travel life è un marchio di un po come una bicorp come un marchio certificatore di un ente terzo noi stiamo procedendo in questo istante a due certificazioni proprio per il turismo sostenibile una appunto tramite travel life loro sono andesi e lo fanno in modo olandesi olandesi lo fanno in modo diffuso e c'è tutto ti infilano dentro un sistema che mano a mano ti porta innanzitutto a ragionare su te stesso come azienda ma dal punto di vista proprio di team staff di lavoro quindi la sostenibilità non è intesa solo come carbon free perché non inquino ma anche se non uso carta in ufficio se i dipendenti sono trattati in modo corretto dall'altro lato stiamo facendo anche la certificazione unica europea cez insieme al parco perché evidente che se gli anni precovi sono stati la preparazione anche un po questo al trend del turismo attivo i prossimi dieci noi dovremmo essere bravi non noi vertical life ma tutti gli addetti lavori a gestire il flusso il grosso flusso turistico che arriverà perché è indiscutibile il fatto che andiamo in delle zone che fino a ieri non erano erano intoccate e bisogna organizzarsi bisogna fare in modo che l'impasto si sputtani tutto esatto e il dialogo e il dialogo che riesce a instaurare è bello perché poi il privato l'iniziativa privata è sempre più rapida di quella che può essere istituzionale di un'amministrazione ma quando incontra l'interesse dell'amministrazione il match è buono perché c'è una sorta di fiducia e dall'altro lato è un'apertura anche di canali che contrariamente da solo non potresti andare ad avere importante quello che dici nel senso che anche capita spesso di ritrovare questa cosa qua dove il privato iniziative illuminate chiamiamole così siano più avanti e più veloci dell'amministrazione pubblica che su certi temi non è aggiornata c'è altri cazzi anche magari per la testa quindi è proprio dovere dei singoli operatori in questo caso sono turistici ma possono essere anche degli altri campi attivarsi riguardo se hai parlato di altri operatori sicuramente magari ci sta ascoltando qualcuno che è affascinato dalla vostro percorso perché diciamo che adesso è proprio una moda quella di far diventare il viaggio un lavoro voi avete fatto un percorso diverso rispetto a quello che va un po' per la maggiore adesso no c'è quello del travel blogger che va in giro adesso poverini per un anno e mezzo sono rimasti disoccupati però se ci immaginiamo quello che stava accadendo se ci ricordiamo quello che stava accadendo prima era dato questo format cioè io giro per il mondo mi fotografo no no i travel blogger non sono andati cioè alcuni sì ma ce ne sono tanti che seguo anch'io che continuano imperterriti esatto in italia c'era questo tabù e ci sono venuti a raccontarcelo anche human safari eccetera che di non viaggiare dice no vabbè ecco la gente a casa sinceramente non me la sento poi si sono rotto il cazzo iniziato a viaggiare perché non ci stavano più dentro un tizio che seguo io drubinski adesso in venezuela invece siete pre adesso non voglio darmi dei vecchi ai vostri a vostri tempi la nostra leva paolo correggimi che dovrebbe essere 79 84 noi siamo nati analogici e cresciuti digitali esatto analog digitali esatto nel senso che noi siamo quelli che poi sostanzialmente giocavano al gioco della campana ma poi hanno fatto la fortuna di google sostanzialmente utilizzando i loro strumenti è tipo tipo cosa no la verità comunque che c'è anche voi sul digitale senza il digitale non sarebbe senza senza per noi abbiamo una religione big g per noi senza google perché voi usate il posizionamento sul motore di ricerca e la vostra arma principale di marketing la gente dall'estero vi trova perché quando cerca altro outdoor travel in italia trovano vertical live poi yes questo è poi nasciamo che aveva queste conoscenze di digital io in realtà con perché ho sempre lavorato per tour operator tradizionali che poi si sono trasformati anche loro in digitale ho visto di fatto nel 1998 quando c'era i primi webmaster capivano come si faceva come si faceva un blog come si faceva come si portava il SEO esatto e quello è stato ma non è stata neanche una strategia per me era solo l'unico modo che avevo per lavorare mi hanno insegnato così quindi per me era sistematico se parlare di una destinazione per me era quello quindi prima di fare vertical life hai lavorato veramente sì sì esatto prima di vertical life ho lavorato diciamo sempre i nostri corsisti anche con i giovani prima vai a lavorare poi magari ti fai il tuo progetto ma il problema è che ha lavorato solo lui cioè gli altri e beh ma ne basta uno come nella nostra azienda no no esatto la verità è che siamo tradizionali ma nella perché adesso appunto parlavi prima dei travel blogger che è un lavoro diverso perché io non è che riesca proprio a mettermi non perché li voglia né levare né denigrare semplicemente sono due cose diverse perché hai un modo di di far vivere un'esperienza prima attraverso appunto i travel blog i video i vlog eccetera e poi invogli in qualche modo il turista o comunque chi ti sta guardando a seguirti a fare quello che fai tu il travel blogger è tour operato come voi siete parte di uno stesso ecosistema cioè il travel blogger sì in qualche modo influenza le persone magari qualcuno poi dice magari faccio anch'io sta roba è mountain bike se parli di ecosistema sì assolutamente diciamo che però poi ci sono un po' come essere adesso non voglio fare un paragone azzardato no no fallo fallo dai una differenza tra un carnivoro e un vegano cioè siamo mangiamo tutti ma uno mangia l'altro no ma uno mangia carne l'altro mangia altro nel senso che di fatto i travel blog poi i travel blogger creano delle comunità intorno a loro non che con questo non significa che siano egocentrati attorno alla loro bellezza o capacità di trasmettere ma le esperienze che propongono sono esperienze dove di fatto sono loro che accompagnano o certo c'è quell'approccio c'è quello stile noi da questo punto di vista invece crediamo che abbia molto più senso che sia il turista stesso il viaggiatore a farsi il suo stile a concepire un viaggio attraverso non lo so delle letture che ha fatto lui o film che ha visto non ti devo convincere io io arrivo nel momento in cui se ti vuoi fidare di qualcuno che lavora da anni in maniera professionale o comunque ci proviamo se ti vuoi affidare a noi noi ci diamo una consulenza che ti permette di creare la tua esperienza quello che tu pensi sia voi siete la blockchain siete decentralizzati bravissimo gli altri sono centralizzati non le banche questo mi piace tantissimo stanno flippati con le criptovalutiche immagino anche noi ormai ragionano sempre su è l'unica cosa che mi dà il pane è vero quindi insomma parte dello stesso universo è verissimo dopodiché io apprezzo il travel blog il travel blogger per quello che fa perché mette risalto delle destinazioni che anche noi di cui anche noi siamo appassionati ma sono due modi di viaggiare completamente diversi diciamo che la nostra missione in qualche modo potrebbe essere quella di a un certo punto fare in modo che il nostro cliente cioè noi al nostro cliente togliamo uno sfizio nel senso vuoi fare la camminata su ghiaccio di monte bianco vuoi fare il tour di mountain bike in sardegna vuoi vivere con l'esperienza noi ti organizziamo l'attività e ti diamo la possibilità di essere te stesso a 360 gradi senza pensare a nulla il travel blogger in realtà è interessato a far vedere tant'è che noi siamo contattati sovente da travel blogger che in qualche modo ci chiedono una sorta di collaborazione oppure consulenze dopodiché non abbiamo mai lavorato con da questo punto di vista sì forse siamo tradizionari anche un po vecchi però in questo mi sento molto più legato al concetto di tradizionale di esperienza anche di affidabilità cioè voi avete comunque tanti anni di lavoro sul campo e non è un caso che vi contattino è che il core delle nostre attività ripeto torniamo al discorso di prima sono attività per le quali è importante che ci sia intorno a parte un'organizzazione che ti dà la possibilità di non pensare ma anche un professionista certo che può essere ma quant'è il minimo di un gruppo per fare un viaggio con voi cioè voi continuate a parlare di viaggi su misura ma se io vi chiamo da solo mi dice voglio fare questo non è che voi intanto ti svelo un segreto nel mondo del turismo quelle persone che ti chiamano e sono da sole e vogliono fare tutto sono le persone che tu sostanzialmente odi non odi però quelle che ti mettono sempre in difficoltà perché pensano di poter accedere a sostanzialmente tutto il carnet di possibilità però se lei convince partecipare a una data calendario in realtà sono i migliori clienti perché sono quelli che poi ti vanno a formare i gruppi la nostra la nostra strada poi quando c'è la svolta è stata per l'organizzazione di queste date calendario che partono che sono sostanzialmente stagionali stagionali però in questo modo riusciamo a chiudere gruppi che tendenzialmente vanno dai quattro delle quattro tre persone per l'alpinismo in sette agli otto per la mountain bike i dieci per la parte di trekking e di solito le persone questi gruppi sono composti da coppie singoli la cosa una delle nostre pecche se vuoi è che non siamo mai riusciti a definire troppo forse non l'abbiamo mai voluto fare ma definire troppo il target del nostro questo argomento però è super interessante perché il target in realtà ne stiamo parlando anche con Roberto si è autocreato no che il target tendenzialmente può essere uno poi però le esigenze di chi vuole fare un tour di climb sono necessariamente diverse da chi vuole fare un tour di trekking quindi stiamo andando a costruire proprio i target si autodifferenziano in qualche modo si ed è bello per vedere poi che al di là dell'attività o della passione che si vuole portare avanti quindi se io vengo a fare trekking sono tutti vecchi no 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 ragazzi no mi spiace io l'ho fatto posso testimoniare che il target è perfetto io ero il più giovane devo ammettere però va bene però tutte le persone che hanno partecipato io ho fatto trekking nel deserto in Giordano con voi erano persone perfettamente allineate con me avevamo tutti gli stessi valori avevamo tutte le stesse opinioni erano persone stra interessanti e posso anche confermare che io ero il più scarso di tutti a camminare nonostante qualcuno avesse sui 70 era molto più in gamba ma infatti è proprio questo il segreto secondo me è il fatto che dietro la parola outdoor che mi dispiace tantissimo che sia in inglese perché vorrei a me non piace usare troppo inglese fuori porta eh vabbè l'attività viaggio all'aperto eh viaggio vedi che non rende fuori porta neanche sembra all'oratorio esatto sembra andare al parco alle altalene non va bene outdoor è molto meglio quindi continuerò a usare questa però la chiave è proprio lì cioè chi è appassionato di una delle attività che si fanno outdoor alla fine come diceva Enrico si ritrova in una grande comunità che apprezza ma certo come quando un certo tipo di valori Gio se vai a sciare con tutto rispetto perché io sono un po' ambivalente mi piacciono tutti i due mondi però vai a sciare a Cervinia oppure vai a fare scialpinismo in Alpedevero vedi due faune completamente diverse a Cervinia o a Curma vedi il borghesone Alpedevero a fare tutti un po' come noi tutti strani no 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 gente che o che fa finta o che ha studiato insomma poi ci sono quelli che rompono le ciaspole due su tre come l'ultima volta che siamo andati ah io ho rotto le ciaspe l'ultima volta siamo stati erano le nostre noi abbiamo la fortuna di avere l'azienda l'azienda insomma l'ufficio in Svizzera anche l'azienda due persino no azienda si infatti e quindi abbiamo fatto dei come possiamo definirli dei delle no dei building come si dice team building del team building del bazar che è quello perché non si poteva non ci avete chiamato però no no vi abbiamo chiamato ci avete mandati a cagare no no non potevate avete fonda abbiamo fatto team building due ne abbiamo fatti team building si uno al san bernardino bellissimo il passo del san bernardino e l'altro e l'altro al luco magno luco magno dove lui ha spaccato la ciaspola perché ho fatto il coglione si si perché perché io sono non so li hai presi come sci abbiamo fatto un fuori esatto no abbiamo fatto un fuori come si dice fuori traccia fuori correvo con le ciaspole in discesa sulla neve appena caduta sulla neve fresca abbiamo fatto i matti ho fatto la ciaspole di decathlon no erano ciaspole erano fiche no erano buonine cioè insomma dai sui 90 euro l'una e poi si sono stati presi per il culo dagli svizzeri della svizzera interna com'è che le chiamano i sì perché le ghette le ghette le ghette le ghette sono quelle giuste ma loro le chiamavano cavoli le ma di che cosa parlate delle ghette cioè che loro chiamano le ciaspole con una parola che ne usiamo per un'altra cosa no era le ghette no allora le ghette sono quelle perché proteggere proteggere la cavità e loro le chiamavano caspita noi quando abbiamo detto avete anche le ghette e ci hanno guardato strano perché comunque stiamo parlando del canton grigioni che comunque ancora parlano italiano ma loro dicono racchette da neve no quelle per proteggere dall'acqua con lo sprofondi le ghette e loro le hanno chiamate con un altro nome che non c'entra niente cioè era un'altra cosa sì perché in Svizzera hanno dei termini leggermente diversi tipo ciabatte l'hanno chiamate flip flop esatto chissà tra l'altro parlando di svizzeri scusami mi è venuto in mente un episodio della scorsa estate sempre confine le gamasce ganasce le ganasce gamascia ah ecco loro l'accetto fa le ganasce guarda Milano le ganasce sono un'altra roba e te le mette il ghisa quando fai il parcheggio il ghisa e poi aspetta e poi sì poi gli ho detto ah no poi gli ho detto no perché sai in italiano si chiamano ghette eh ma anche noi parliamo italiano cioè guarda ganasce non è italiano cioè proprio sai appena scesi dalla macchina il primo scintilla no dicevi lo svizio no no mi è venuto in mente parlando di svizzeri mi sono venuti in mente i francesi che non c'entra niente direi però sono confinanti esatto e l'anno scorso parlando di viaggi in Europa alla fine era tutto comunque chiuso o per andare da un'altra parte al lato per fare comunque le varie quarantene motivi di lavoro sicuramente non per turismo la però per far capire la differenza tra come viene concepito l'outdoor in Francia che è una che è la patria è la religione esatto del catrone francese esatto e in Italia sostanzialmente loro visto che il Monte Bianco ovviamente delimita no il confine tra Italia e Francia i francesi sostanzialmente facevano quello che gli pareva ossia passavano da Scemonia finivano in Italia prendevano le loro macchine giravano senza problemi le guide alpine francesi facevano tutto quello che volevano e in Val d'Aosta invece eravamo tutti molto rigidi perché non si può accompagnare no senza il permesso poi devi scendere a Scemonia per fare la la Valle Blanche quindi non puoi andare in Francia e quindi sostanzialmente noi eravamo strano a dirsi ma molto ligi alle regole in Francia magari lo sono a livello non so per il traffico in città ma per l'outdoor anche proprio perché l'outdoor di fatto con il covid è un argomento molto poco avvicinabile nel senso alla fine siamo all'aperto adesso si sta vedendo la zona gialla di adesso tutto all'aperto si può fare al chiuso no quindi di che cosa parliamo eppure i francesi continuano a fare quello che volevano gli italiani perché per loro l'outdoor è proprio libertà assoluta esatto in Svizzera non c'è mai stato il lockdown mai i casi sono esattamente quando sale in Italia sale anche Svizzera uguale il rapporto è uguale non c'è mai stato neanche un lockdown non c'è mai stato il coprifuoco e sono stati aperti sempre gli impianti cistici tutto l'anno io non dovrei dirlo ma ne ho anche beneficiato un paio di volte e e quindi qua sorge un po' il tema è perché i nostri politici sono più furbi di tutti e sanno che noi non siamo capaci di essere disciplinati e mantenere il distanziamento no secondo me non è o è proprio una questione una mancanza di prospetti di visioni un pochino più in là del giorno dopo del decreto in sé cioè avere un faccio un altro esempio il Daily Mail di due o tre giorni fa parlava dei viaggi per inglesi in Europa dove l'articolo spiegava era un articolo di giornale quindi non oso immaginare il ministero del turismo inglese che cosa si stia inventando sostanzialmente ha elencato quali sono le destinazioni in Europa che potranno essere aperte da un corridoio turistico sicuro per gli inglesi parliamo di Grecia Portogallo Spagna noi non ci siamo no ma oggi l'abbiamo beccata una macchina inglese che girava comunque per dire che addirittura nell'elencare questi paesi stavano già e siamo ad aprile stavano già creando un problema cercando di risolvere un problema per agosto ossia visto che sono tutti usciti dall'Europa da Brexit eccetera i passaporti le regole sui passaporti inglesi sono un po' cambiate prima c'era la scadenza la data di scadenza era la data di scadenza appunto adesso essendo fuori dall'Europa se hai il passaporto in scadenza in sei mesi devi rifarlo quindi si sono fatti due conti hanno detto a tutti hanno fatto questo articolo per dire sappiate che se dovete rifarvi il passaporto quest'estate ci saranno dei periodi di attesa lunghissimi questo è avere una visione di medio lungo raggio delle istituzioni noi in Italia non stiamo pensando a niente poi è cambiato un governo un mese fa quando è stato quindi non mi aspetto nulla però è proprio un modo di guarda sciare in Svizzera durante il covid c'erano i rifugi chiusi ovviamente però si poteva mangiare fuori c'erano anche qua si poteva mangiare in zona arancione in zona gialla in zona arancione su dei rifugi in zona arancione mi sembra ci fosse la possibilità di andare a praticare ci sia ancora un'attività che tu non puoi praticare nel tuo comune di residenza quindi potevi fare sci alpinismo quindi potevi andare a fare sci alpinismo ma il rifugio era chiuso quindi ti portavi tu il pranzo a sacco e te lo mangiavi fuori dal rifugio però l'impianti scistici che da noi non hanno aperto occupazione al 30% prenotazione obbligatoria su internet certo basta un sacco di cose sono migliorate da questo ma dicevamo prima anche l'agenzia delle entrate è molto più bello adesso andarci perché tramite un'applicazione tu ti loghi ti scrivi e vai quando arrivi non fai un secondo però sugli impianti scistici non si è riuscito a fare la stessa ma lì è stata l'interruzione dovuta da un giorno all'altro hanno detto aprite 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 non aprite più aprite no aprite e che anche qua gli hanno tagliato le gambe all'ultimo stavano sparando i cannoni però culturalmente c'è sempre anche probabilmente in Italia quella quel modo no in qualche modo di forzare le cose arrivare a un certo punto per fare anche ma giustamente far sentire la propria presenza sapendo che poi si otterrà probabilmente di più quindi io tant'è che mi sembra ad aprile comunque anche regionalmente hanno dato degli aiuti agli operatori della montagna sicuramente i ristori sono stati anche fatti e visti sicuramente per la montagna è tanto complicato ragazzi parlare di perché le cose in Italia sono andate in un modo e continuano ad andare in questo modo o in un altro io non so quanto sia ma infatti in questo momento c'è il Parlamento che sta votando la sfiducia al Ministro Speranza perché comunque abbiamo avuto più problemi delle altre nazioni abbiamo avuto più morti nonostante abbiamo avuto più lockdown e comunque siamo stati i primi porca troia cioè avevamo comunque un vantaggio esperienziale vuoi dire vabbè però si partiva da una base anche molto più compromessa cioè secondo me è molto difficile da calcolare quale sia stato effettivamente il danno o il vantaggio creato da un governo piuttosto che un altro anche perché da che punto di vista cioè nel fare considerazioni su tutte le situazioni è importante capire qual è il punto di vista da cui si osserva la situazione perché mia sorella è un medico lavora in ospedale e vi posso dire assolutamente che le terapie intensive sono sempre state strapiene tuttora fino a dieci giorni fa lo erano poi il punto di vista magari di un'altra persona che non lavora nel sanitario come possiamo essere noi che in qualche modo abbiamo fatto attività abbiamo continuato a lavorare su progetti hai un certo tipo di visione poi c'è quella del privato del dipendente dell'imprenditore sicuramente è complicato io posso dire solo una cosa in Italia si è creato l'ambiente perfetto per poter pensare a tutti i tipi di complotti possibili a livello mondiale perché ti davano proprio la possibilità di pensarle tutte perché alla fine l'immobilismo crea quello cioè il fatto di creare delle regole su tutta Italia allo stesso modo senza differenza come dicevi tu in montagna io continuo a dire che le attività outdoor fanno solo bene allora soprattutto è provato è provato che stare all'aperto quindi prende la vitamina D alza le cioè non è che non è che è provato lo sanno anche i muri e nonostante tutto noi abbiamo chiuso la gente in casa e svizzeri no cioè la nostra fortuna è che potevamo andare dall'altra parte e fare un po' quello che volevamo potevi camminare potevi andare in bicicletta cioè adesso in bici si può andare anche da noi però ci abbiamo messo un anno a capitolo loro non hanno mai smesso di andare in bici ma per quello che dico mai smesso di camminare è un terreno perfetto per pensare a complotto ma quanti di noi non puoi fare niente devo stare chiuso in casa e allora lì inizi a pensare no vabbè ma quanti in Italia vi ricordate il primo lockdown che tutti dicevano scrivevano ovunque tutti ora sono diventati runner tutti ora vanno in bike c'è stato il buon quindi è un po' tornando al discorso precedente relativo anche al target che abbiamo cioè la comunità outdoor ha una cultura tendenzialmente simile magari appassionata delle stesse attività la cosa che l'opportunità che la pandemia ci ha dato e noi da questo punto di vista ne abbiamo approfittato nel miglior modo possibile per quelle che le nostre armi è stata quella di dire ok adesso la situazione è questa stiamo a contestare valutare ciò che sta accadendo ci concentriamo su di noi ci concentriamo sul vertical life e cerchiamo di cavarne qualcosa di buono è stato bellissimo l'esempio delle cordate esatto le cordate in alpinistiche sono fatte apposta per stare in sicurezza in ambiente alpino le cordate hanno un distanziamento logico di un metro e mezzo o due e per noi lì era uno dei primi post che facevamo dopo il periodo di lockdown era proprio quello di invitare tutti a venire tanto per noi il distanziamento è nell'alpinismo è la cosa più vecchia del mondo esatto per noi implicito quindi c'era la foto dei due alpinisti con la corda in mezzo mentre parlate allora noi vi conosciamo siamo andati a Bali più volte per fare i nostri corsi di money surfers non ho ancora capito guardandovi se siete più da surf o da montagna cioè questo è un derby pazzesco no sono montagnini in salto no perché avendovi visto poi a Bali certo porco cane che l'invidia mia è tanta vedendovi surfare come surfate e non lo diresti mai che è uno che surfa così è anche è lo snowboard forse diciamo che il brand vertical life nasce proprio per quello perché la montagna con l'onda dentro e perché di fatto poi la passione per l'equilibrio tra i due elementi anche no? cioè è indifferente? beh no cambiano le cose allora sei stato in lockdown per tre mesi anche tu come tutti quel cazzo di momento in cui non si poteva fare niente quando sei potuto uscire dove sei andato? a fare surf o in montagna? per forza in montagna per forza in montagna non abbiamo le montagne ma se avessi potuto cosa avessi potuto sei andato a surfare ah vedi vedi ma perché io nasco in ambiente io sono figlio del Kai nel senso a tre anni mi hanno messo gli scei piedi e hanno detto vai quindi hai già dato tu dici sì la montagna non è che è che la montagna per me è un mostro sacro nel senso che non sono mai andato oltre un certo limite per scelte mie personali o di altri del vertical invece l'hanno anche superato certi limiti io preferisco superarlo in acqua perché è un ambiente che poi mi ci trovo meglio quindi adesso da quant'è che non surfi? adesso da un po' cioè quest'estate zero niente? no da Bali no però poco e se riprendi come fai? perché io sai che sono stato appena adesso a surfare a Forteventura io faccio cagare e cagare farò però caspita cioè uno di quelli sport che se smetti riprendere io ho fatto due onde ho detto no torno a casa no vabbè diciamo che io non me lo chiedo neanche nel senso è più la forma fisica che è ciò che ti ricordi come la bicicletta però usi dei muscoli talmente diversi ma infatti ci sono un sacco di cioè in lockdown ci siamo inventati tutti noi una palestra in casa qualche trick io in lockdown in realtà avevo un tendine rotto addirittura lui ha fatto un lockdown profondissimo io l'ho anticipato di un mese tu proprio non ti muovi dalla camera da letto no ragazzi è stato eccezionale il primo lockdown perché l'ho anticipato di un mese ah che culo quindi poi felicissimo che tutti quanti abbiano voluto come me stare in casa un mese dopo e poi ho ripreso alla fine a fare le prime camminate in montagna a settembre ma ancora oggi mi porto come hai fatto a farla rompere eh correndo è stato un brutto si si rompersi il tendine ma guarda in realtà gli studi dicono che l'età media tra i 30 e i 40 anni è l'età in cui si rompe il tendine e tendenzialmente si rompe semplicemente salendo e scendendo le scale di casa ma perché si doveva già rompere sì sì era sì io già a Bali no non te lo devi rompere Davide no no io avevo una tendinite già a Bali l'ultima volta che ci siamo visti che ho sottovalutato hai continuato a lavorarci solo no però ad esempio la montagna ti aiuta anche nel surf nel senso che a livello di preparazione fisica stare in montagna e fare attività in montagna poi alla fine ti serve sì comunque guarda polmoni io faccio non sono uno sportivone nonostante vada in bicicletta però usa quella elettrica no è facile dai sono tutti bravi a fare il muro di Sormano con la bicicletta elettrica a palla eppure eppure il carrettino che ti tira quando sei troppo stato ho fatto il muro di Sormano perché comunque abitiamo lì vicino non c'erò mai andato è come andare alla Mecca cioè uno che gli piace il ciclismo certo io ho la bici assistita allora la bici assistita da corsa non è come la bici assistita mountain bike perché la mountain bike se metti il turbo si va da sola quasi quasi cioè basta che soffri sul pedale quello gira esatto la bici da corsa non è così giuro devi un po' darci dentro però beh se metti il rosso comunque il top comunque tira comunque tira muro di Sormano che con te è un chilometro e sei un chilometro e sette cinque volte mi sono fermato col motore a palla no beh è follia insomma una roba folle comunque è qualcosina in realtà cioè sì minimo faccio certo ma quando vai ecco vabbè sì qua si capisce un po' la pendenza non me lo far vedere che mi viene l'ansia ti ricordi il dislivello complessivo no vabbè quel giorno lì ho fatto 1300 chilometri però comunque la bici è assistita 629 metri di dislivello da superare senza sosta con una pendenza media del 9% il vero muro è quello Vicky Pucca poco meno di due chilometri dove le pendenze raggiungono anche il 26 eh capisci no lì quando parti se ti fermi quando riparti hai paura di cadere indietro la pendenza è tanto 27 è tanto il dislivello è comunque vabbè io di media una volta e mezza alla settimana vado in bici ma quando ho ripreso la tavola zio è un altro tema no ma è chiaro perché è una questione di sprint ma è l'elemento proprio anche ha ragione ma proprio l'elemento io che sono un elemento oltre te ma proprio l'elemento montagna acquaria cioè nel senso il concetto è che però puoi essere allenato ma quando cioè il mare ha un certo tipo di energia rispetto alla montagna posso dire io a Forteventura ho fatto tutti i giorni bicicletta tranne l'ultimo giorno surf quindi ho sbagliato anche proprio il design della vacanza perché tu dici quando sei spompato o a me piace la bici ma quando finisci di fare surf l'ormone che parte lì una stanchezza no è diversa cioè è nirvanica è nirvanica è qualcosa di inspiegabile non c'è nessuno sport è che quando fai bici alla fine più o meno il movimento è sempre quello sempre c'è lì invece devi sempre muovere devi sempre aggiustarti in qualunque momento si muove l'acqua stessa quando vai a correre torni indietro stai da dio c'è cazzo da fare quando vai in bici torni indietro stai da dio devo dire che per quanto mi riguarda quando vai in bici stai da dio anche mentre vai infatti correre non lo so ha messo su il surf è meraviglioso mentre ed è quando finisci dopo è nirvana mentre mangi mentre mangi il cibo crudo appena preso dal frigorifero che c'è per la fame no ma poi la testa secondo me è la questione dell'acqua proprio che scarica elettricamente secondo me il fatto che rispetto agli altri sport tu hai quel momento in cui cavalchi l'onda ah certo che magari dura anche pochi secondi nel nostro caso nel nostro caso anche pochi millesimi di secondo però ti senti libero e sospinto da una forza e questa cosa secondo me imprime un ricordo dentro il corpo che dice ma tu puoi essere sospinto da altre forze ovvio che per prendere quell'onda ti devi fare un culo io anche ho fatto polisurf con Riccardo ma infatti se io volessi fare una veramente ho sbagliato tutto perché non ho programmato questa vacanza l'ho fatto un po' a cazzo però mi è andata bene così quindi non mi sono proprio divertito tantissimo surfando ma se la prossima volta volessi andare a fare una settimana e dire faccio solo surf qual è solo surf qual è la come devo scanalare le giornate perché tutti i giorni mi sfondo ho 40 anni e passa dipende ah Riccardo a te ti ha detto il vostro socio che salutiamo Riccardo Chiura che sta a Fuerteventura di tutte le surf house padrone di tutte le surf house della vertical life ogni 5 anni ne apri una ogni 5 anni cioè adesso tu che devi ripartire come riparti tu vai a tuono tutti i giorni a sfondamento ma non è uno sfondamento esatto un'ora al pomeriggio basta alternare come 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 un un po' di lasoni dopo 3 giorni qua sul costato esatto esatto quello si lo fai un paio d'ore la mattina un paio d'ore prima del tramonto ok è sempre tutti i giorni quindi fai un pausone in mezzo che ti riprendi mangi dormi dormi e rivai esatto ma poi dipende molto da dipende molto da te perché invece io sono a me piace entrare in acqua e farmi tipo 4 ore che esco fuori che esco fuori non riesco neanche ma la tentazione è quella infatti ma hai cioè come se ti fossi drogato è una poi dopo sei sconvolto sei alterato comunque esploso a dei livelli allucinanti il surf io a Fuerteventura ci andavo quando ho iniziato a fare money surfers la prima cosa che ho fatto è che avevo avuto la prima possibilità di fare trading e basta quindi sono partito a gennaio sono andato a Fuerteventura ma erano 5 in acqua che facevano surf ti sto parlando del 2010 sì sì dieci anni fa ma 4-5 gente che la vedi in faccia un po' come voi che si capisce che fa surf adesso invece ci sono a parte io che faccio ridere ma ci sono ci sono i ragazzoni quelli che tu dici ma questo è appena uscito dall'esame di di matematica finanziaria e sta facendo surf le ragazze di tutti i tipi è diventato uno sport per tutti globale di sicuro adesso tra l'altro non so se l'avete visto il in Svizzera a Laya Bay e sto facendo una pubblicità che non vorrei fare c'è l'onda finta la piscina in mezzo alle montagne no con l'onda spiegaci spiegaci hanno fatto una allora l'evoluzione della tecnica di onda finta sono ormai vent'anni quella che c'ha in casa il pilota di Formula 1 lo sapevi come si chiama Hamilton mi sa che in casa ha una piscina con l'onda però ci sono le piscine di una volta che sostanzialmente tu eri fermo e l'acqua scorreva sotto di te adesso invece con Kelly Slater che è stato il primo esatto questo è quello in Svizzera adesso metto il wave wrench di Kelly esatto ed è la nuova il futuro del trend positivo del surf è questo cioè come funziona sostanzialmente hai delle onde usano un treno usano un treno con un hydrofoil che crea un'onda artificiale molto grosso si vede proprio guarda qui c'è un binario con un treno che va sopra che crea l'onda ma come fa a creare l'onda sposta la massa d'acqua e quindi si crea lo fa in maniera da creare delle onde anche di diversa misura per il principio di Archimede cioè la puoi decidere non c'è un video sì non che il trend questo tipo di trend sia necessariamente questo è un po' un po' sminuisce poi l'aspetto naturale della cosa ma era per dire che è talmente in crescita ok mi avete convinto andiamo a fare surf la prossima settimana in Italia dove si va? in Liguria in Italia terraferma in Liguria in Toscana in tutta la costa Liguria tutta la costa dove? a Varazze vero? da Renzano a Levanto guarda su vari spot in Liguria su 200 km di costa ci saranno almeno una ventina di spot però devi guardare l'app sì sì ma infatti la malattia qual'era Paolo? la macchinite la smacchinite la smacchinite quella di arrivare al bivio Genova Ventimiglia e già lì non sapere dove andare perché magari di là è meglio di qua di là e poi alla fine ti facevi tutta la costa in un giorno per cercare quella migliore veramente? sì 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 io ho passato tantissimi anni ma dalla strada tipo tu guardi Londra e dici voglio soffare lì sì dalla strada dai messaggi degli amici da quelli che ti che ti prendono in giro e ti dicono sì vai lì che è meglio perché poi sono local e non ti vogliono in mezzo alle palle quindi ah quindi ti danno i falsi sì poi in Liguria poi in Liguria si sa che i Liguri hanno questa naturale vocazione nell'ospitalità beh anche a Fuerteventura c'è il localismo di Fuerte ovunque ma adesso ci sono le app però che ti dicono ma mi sa che la Liguria non c'è c'è su AIG no c'è c'è il Molise c'è il Molise il Molise non esiste il Molise non esiste no no c'è 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 su Sea aspetta com'è che si chiama Sea Magic Sea Magic Sea Magic Sea c'è la Liguria è su Magic Sea sì ma non ci posso chiedere però non è però non è così attendibile perché Magic Seaweed è più sull'oceano è più su grandi spot in Italia bisogna guardare 3-4 siti che sono ad esempio sar.sardegna.it sar.sardegna.it credo e perché ma solo per la Sardegna perché ti dà delle mappe da 24-48 ore quindi molto immediate però precise sui 20 e sull'altezza media delle onde sul periodo insomma ti dà quei quei tre valori che incrociati ti dicono ti fanno capire se c'è onda Magic Seaweed devo dire anche in Portogallo il 60% del tempo ti deludeva sempre dici è un po' e beh anche perché prende tutto il globo un po' come il Google Maps ah cioè non è affidabile dipende ti crea sempre oh 5 stelle 5 stelle e poi arriva il giorno e dici ma che cazzo so queste 5 stelle ma invece l'altezza dell'onda era giusta no beh sono indicati bisogna saper leggere innanzitutto le carte meteorologiche perché se non se se ti affidi solo al TripAdvisor del surf però in Liguria non è che c'è quel sistema di affitto di tavole del surf si trova tutto adesso iniziate beh come hai detto tu cioè Bali e Fuerteventura oramai ce l'hanno anche non so anche il bar esatto il bar ti affitta il caffè ti affitta la tavola il caffè surf insieme no adesso in Liguria si stanno attrezzando bene già da qualche anno già da metà degli anni 2000 beh allora per il Piemonte sì per il Piemonte una delle mete preferite per iniziare a surfare è sicuramente Andorra perché lì c'è un bagno dedicato di cui conosciamo i proprietari sono appassionatissimi di surf da un sacco di anni e che onda c'è lì? la maggior parte sono tutti beach break quindi con sabbia sotto quindi che va bene per i principianti esatto e poi invece ci sono altri spot un pochino più aggressivi se vogliamo perché hanno anche un po' di fondale un pochino più ciotoloso ma che tipologia di guarda il problema dell'Italia o del Mediterraneo che è fondamentale che è fondamentale e il fondale è come anche sull'oceano è fondamentale per definire un'onda cioè se è beach break di solito sono molto veloci e chiusoni i cosiddetti chiusoni se invece hai un reef o insomma rocce sotto la linea è molto più definita ah cazzo che incula fregatura il problema qual è? che in Italia il periodo dell'onda il fetch cioè quello che c'è dietro l'onda non è così ampio non è così la vedi arrivare la vedi arrivare alla fine? no più che altro proprio il bacino del Mediterraneo è piccolo rispetto a quello degli oceani e quindi il vento non fa lo stesso lavoro non riesce a a portare grandi masse d'acqua come come sull'oceano e quindi in Italia bisogna essere il surf è filosofico in Italia farlo in Italia bisogna essere proprio filosofi del surf cioè concepirlo come dicevamo prima piuttosto entro in acqua anche senza grande onde belle ma entro ah perché pagare un po' mi scremmi mi tolgo un po' di pensieri e lo faccio ma dai ma non nessuno ti garantisce di cioè non deve avere trovare l'onda perfetta perché sono rarissimi i momenti ne parlavo con lui l'altro giorno cioè in Italia per fare surf devi essere particolarmente sfegatato perché tu devi aspettare magari la notte in macchina che sai la mattina dopo c'è un'ora di onda assolutamente mentre vai in Portogallo vai a Bali tu puoi surfare tutti i giorni di tutto c'è un amico sudamericano che chiama i surfisti italiani i surfisti del corazón esatto devi essere proprio ragazzi noi quando siamo andati il primo anno a Venezia per il corso che abbiamo fatto al Palazzo del Cinema sto scherzando c'era anche tu no? certo ho fatto le foto arriviamo e davanti al Palazzo del Cina di Venezia c'era il surfista al Lido al Lido di Venezia you know al surfare sull'Adriatico non l'avrei mai detto ma erano anche delle belle onde mi ricordo perché non è laguna Lido è oltre la laguna la sponda però è l'Adriatico l'Adriatico è ancora più cioè volendo è proprio una piscinetta perché l'unica eppure tanti che facevano il fondale bassissimo ma poi l'unica direzione delle maleggiate può essere solo tendenzialmente da sud e per fatti lì che facevano se no non c'è spazio è vero no la Liguria è bella perché ha il diciamo che si trova a sinistra delle bocche di Bonifacio da dove tutte le perturbazioni atlantiche arrivano e arrivano e si sfogano poi sul Mediterraneo quindi è un po' come avere un canale naturale dove arrivano tutti i venti cioè il maestrale quando arriva in Liguria c'è onda tendenzialmente e comunque però non d'estate cioè tipo a luglio-agosto a parte che c'è un botto di incente ma poi ci sono meno 20 meno 20 perché c'è molto più alta pressione e poi troppa gente in acqua poi troppa gente in acqua ci sono dei posti però per farti capire quanto si sono evoluti fino a qualche anno fa in estate arrivavano le regole estive e quindi il surfista non poteva entrare invece adesso a Levanto ad esempio hanno creato la zona per il surf wow è già un anche estiva andiamo a Levanto appena possibile ho appena mandato una foto di Levanto non l'abbiamo mandata online invitateci guarda adesso siamo tutti già è dalla prima puntata che tutti gli ospiti chiede di essere invitato a fare qualcosa certo e noi ti invitiamo adesso si può io aspetto io aspetto l'invito ma senti io ti vengo a prendere in macchina in settimana in settimana io non lavoro non lavori tu tanto noi non possiamo invitarvi però noi siamo gente di lago ultimamente abitiamo sul lago di Como e abbiamo visto che adesso sta spaccando questa cosa del wake surf cosa ne pensate? cos'è il wake surf? un bel modo per fare un po' di training siete aperti a tutto non c'è il razzismo devo dire se faccio un po' il purista ti direi se la barca andasse a idrogeno ah certo ma visto che è però faccio il purista posso anche non fare che cos'è il wake surf surfare l'onda generata da una barca oh yes è una cosa nuova non si è mai fatto trascinato ma non è meglio il surf elettrico a Torino abbiamo un paio di posti così dove c'è wakeboard adesso non so se è la stessa attività quindi ci sono come se ci fossero degli ski lift dentro pozze d'acqua dentro laghetti che effettivamente cioè che creano quest'onda no più che altro lì sei trascinato e quindi riesci a lavare tu ci sono poi salti quello che dite voi è proprio un'onda creata dal motore e quindi tu se sei bravo stai anche senza senza la corda esatto senza la non è il vai avanti cinautico è un'altra roba cioè quello è proprio surf senza corda però devi essere credo bravo a guidare il motoscafo perché devi sapere qual è la velocità giusta ho visto che su internet ti spiegano esattamente come creare l'onda giusta in barca ma è diventato secondo me è diventato famoso dopo che diletta le otto ha fatto un video diletta le otto in questo momento detto così ha bruciapelo non mi viene in mente il sole però era per dire c'entra con l'acqua l'ha provato anche lui lei quindi ha delle cose di salvataggio esatto sicuramente mettiamo una foto di diletta le otto a sto punto così a caso che fa wake surf quelle che erano state leakate ho detto sicuramente non verranno nominate diletta le otto e barbara d'urso che nominiamo adesso no però c'è una scommessa in atto voi non lo sapete diletta le otto è su tutti i giornali è un po' più colta come scommessa ma se non direte una cosa che tutti dicono nel nostro podcast vincete un premio vincere un premio perché vabbè non apriamo il tema diletta le otto che oggi ma chi se ne frega di diletta le otto ma che cazzo io non so perché ha fatto da proma no perché la beccano sempre c'è il gossip lei passa per quella che mangia uomini e quindi quindi sì wake surf si può fare come training sì io non lo farei mai come ma l'hai provato sì io una volta diciamo che non lo abbiamo a catalogo tant'è che io io l'ho fatto da spettatore io l'ho fatto da spettatore ero sulla barca a me sembrava una cosa allora la barca doveva partire rifermarsi ripartire continuamente hanno bruciato una quantità di carburante assurda in dieci minuti ma infatti a meno che quello che c'è dietro non è un campione della madonna la barca si deve fermare e ripartire continuamente quindi è un outdoor abbiamo preso un po' di distanza da ciò che è a motore esatto noi per esempio abbiamo i famosi eliski che in Svizzera impazzano per fare freeride cosa sono gli eliski sono un servizio che ti portano a sciare sull'elicottero ti portano subette che non potresti raggiungere o meglio le potresti raggiungere con le tue gambe se fossi un scialpinista con i controcazzi esatto che è un principio che ormai è un'attività che fanno da anni dagli anni 80 da De Sica in poi diciamo che è un'attività anni 80 noi per esempio molti stranieri non ce lo chiedevano non l'abbiamo mai fatto beh se volete la certificazione mi sa che è qua bravissimo no ma poi è una questione valoriale esatto cioè al di là dei consumi CO2 è proprio una questione di ti devi conquistare una meta quindi siete contro la bicicletta elettrica ma no è diverso perché quella è una pedallata assistita prima volevo farti una battuta sulla bicicletta elettrica io ho la bicicletta elettrica quando esistono le biciclette elettriche le bici normali adesso sapete come le chiamano le bici muscolari le muscolari quindi in realtà hanno fatto bene a chi già aveva una bicicletta perché adesso si sentono muscolari è vero è vero io c'ho le bici muscolari e da uomini due esatto e possono addirittura avere la controparte cioè caricare chi va in bicicletta elettrica eh sì sì detto ciò però la bici la bici della tassistita ha aperto ulteriormente un mondo delle opportunità e possibilità ma infatti tornando a bomba su mi inserisco ma più che altro per un discorso di prendere distanze dalla parte motoristica del turismo tra le varie opportunità che abbiamo cercato di seguire dopo marzo aprile il quad no c'è stato proprio la possibilità per connessioni di partecipazione a fiere in passato di entrare in contatto con un'altra serie di operatori del territorio ah lì è stato che come noi si occupano a vario titolo di turismo attivo e sostenibile e da lì è iniziato un percorso bellissimo che in parte parlo personalmente mi ha anche tolto da un tutto quello che era un aspetto depressivo di cui parlavo prima perché comunque i momenti di stanca totale da far programmazione clientela che arriva provare a vendere qualsiasi tipo di cosa abbiamo trovato un interesse e al 31 di luglio del 2020 Vertigo Life è tra i soci fondatori di questa rete di imprese nazionale che si chiama Active Italy turismo attivo e sostenibile ad oggi siamo in 30 abbiamo fatto un lavoro pazzesco nel senso molto pro bono perché ci abbiamo messo del nostro cosa consista? sostanzialmente abbiamo cercato di creare un team un affare massa critica per cercare di andare a inserirci in un momento storico in cui il turismo classico sta cedendo necessariamente il passo al nostro tipo di turismo massa critica per cercare anche di andare a fare una parte educativa tra di noi nei confronti degli operatori con cui lavoriamo e di creare poi appunto questa filiera che si diceva prima se aumentano i flussi turistici noi dobbiamo essere capaci di gestirli in modo migliore quindi oggi siamo 30 da tutta Italia siamo veramente molto orgogliosi e contenti di non aver perso le speranze in un momento un pochettino più buio di anche di quello che viviamo un anno di distanza dalla pandemia poi il covid vi ha fatto bene se non c'era il covid ma noi non l'abbiamo preso poi ancora esatto tra l'altro non sappiamo no però oltre a farci averci fatto bene poi ci ha fatto scoprire appunto questa cosa delle reti di imprese io prima della pandemia non sapevo esattamente cosa fosse ho fatto scoprire anche degli strumenti di condivisione al di là dei social veri nel senso concreti tra aziende perché poi alla fine di fatto che cosa vi scambiate? sostanzialmente creiamo una abbiamo creato intanto la rete di imprese è proprio una forma nuova quasi sperimentale perché è nata da pochi anni sul turismo sicuramente 2009 e permette a tante aziende del settore quindi tanti tour operator di mettere sul tavolo degli obiettivi comuni e portarli avanti cosa che prima si faceva forse attraverso associazionismo con camere di commercio cooperative ed erano comunque degli impegni perché di fatto poi anche un'associazione è un impegno a livello fiscale burocratico certo e invece la rete di impresa è decentralizzata è molto leggera è bellissima non c'è intanto esatto intanto ha una orizzontalità incredibile perché nessuno è capo di nessuno gli obiettivi sono davvero messi lì sul tavolo come oggetto fondante della rete come la bitcoin è decentralizzata e poi soprattutto devi firmare davvero poche carte e hai quello che ti serve quello che noi abbiamo fatto con ActiVital in realtà è stato come diceva lui prima il turismo attivo in Italia prima della pandemia se esisteva era veramente una micro una micro parte del mercato tanto in B2B tra l'altro quindi con operatori che e soprattutto era legato alla cultura straniera dell'outdoor quindi non di certo un turismo italiano molti operatori che adesso fanno parte di questa rete erano operatori che vivevano esclusivamente di stranieri in Italia e si sono ritrovati davvero molto spiantati non sapevano più dove sbattere la testa perché per loro sono caduti i contratti da milioni perché avevano olandesi francesi tedeschi americani soprattutto canadesi che arrivavano a bordate quindi per loro è stato davvero però gli italiani hanno sostituito il flusso degli stranieri no per loro no perché loro non avevano proprio un mercato italiano non avevano neanche i cataloghi in italiano erano tutto dedicato allo straniero noi per quello che dicevo prima che quando abbiamo scritto i nostri codici a teco noi volevamo il turista italiano volevamo quantomeno offrire qualcosa anche agli italiani e quindi insomma la cosa di actività le è servita a noi perché effettivamente ci ha distratto da un periodo buio anche solo poter parlare con persone che fanno il tuo mestiere anche in zoom vari meeting però almeno parli con qualcuno senza sentirti per forza lo sfigato di turno perché alla fine poi io ho tanti familiari amici era anche in parte un gruppo d'ascolto davvero ce lo dico non è battuta ma davvero così poi di condivisione di problemi di preoccupazioni di buone pratiche o meno per come affrontare il futuro c'è chi aveva dei contatti magari più in enti istituzionali ha condiviso le proprie conoscenze per permettere a tutti di uscirne un anno dopo invece stiamo in qualche modo prendendo insieme come rete a parte crescendo perché da 16 mi sembra fondatrici siamo diventati in meno di un anno la cosa bella è che invece stiamo davvero andando a stimolare tutti gli attori che sul territorio in qualche modo non hanno mai preso in considerazione l'ipotesi di mettersi e fare qualcosa in modo corretto sostanzialmente l'interretto è una lobby sì beh il lobbyismo è da fare il cartello ci piace di più il cartello della roba qua ci vuole la sigla dei narcos no però è vero nel senso che proprio perché era un mercato molto piccolo affermarsi chi sono gli altri da che regioni vengono guarda da tutta Italia tranne il Molise che non esiste no però non volevo fare no no però tranne no mancano un paio di regioni mi sembra Friuli Venezia Giulia Molise Calabria Friulani Venezia Giulia e Calabria che tra l'altro voglio dire che regioni perché lì ce n'è di roba è vero che il Molise non ha detto esatto unitevi ad Active Italy e spaccate ci vuole ci vuole questa cultura del turismo per migliorare l'accoglienza per chi vuole farlo migliorare la cultura delle persone che lo approcciano in maniera magari meno cialtronesca e più coerente con quelli che sono i valori di questo tipo di attività cioè farlo con voi è un modo di farlo senza rischi sì ma anche evitando di perdersi le cose magari più belle che magari sono dietro l'angolo e voi sapete che possono essere fatte eccetera si diceva prima del target di quello già passi noti di out l'abbiamo già detto che tipo di magari cultura ha alle spalle la cosa bella è che in questo momento noi come Vertical Life noi come rete Active Italy in qualche modo ci sentiamo anche responsabili di intraprendere insieme alle persone che approcciano le ciaspole quest'inverno erano introvabili perché tutti andavano a ciaspolare però in qualche modo di attivarci per creare una nuova forma di cultura legata all'outdoor anche per chi non ha un retaggio culturale come i beri appassinati ecco ad esempio io faccio hai fatto un esempio chi non ha retaggio chi non è pronto ma se si trovano nel gruppo invece con quelli che vogliono spingere voi riuscite a organizzare anche sì no no beh perché lo dico io perché mi la procura io non ho mai fatto scialpinismo cioè se mi buttate con delle iene ore e ore a capire come fare corsi di primo livello corsi di cioè voi riuscite a costruire dei team di persone di pari livelli sì assolutamente anzi l'attività già di per sé le attività non so l'alpinismo salite i 4.000 sono un tot e c'è anche un percorso che in qualche modo noi con una consulenza telefonica di un professionista di un responsabile dell'alpinismo riesce a inquadrarti sì e diciamo ok guarda magari incomincia da questo e lui ti ascolta perché vedi in te anche magari qualcuno che di cui fidarsi perché ha bisogno di certezze perché poi davvero vuole fare quelle esperienze e non vuole vivere altro ma poi te lo porti dietro perché inizi con lui il segreto è quello te lo porti dietro su un monte bianco ma magari lui dopo 4 anni ti fa una salita al Kilimangiaro ti fa un campo basero è molto soddisfacente c'è uno di quegli esempi che mi chiedevi prima un altro episodio dalla campagna di Ercolino Ercolino ragazzi è stato sempre in piedi è un personaggio che a un certo punto ha iniziato a contattarci perché voleva venire in Valle d'Aosta e fare il ghiaccio del monte bianco che è tosto che è no è una delle altri level quindi fai come prima cosa stiamo parlando di trekking di alpinismo alpinismo se tu vuoi approcciare all'alpinismo una cosa molto valida da provare è il ghiaccio del monte bianco e non devi saper camminare cioè non devi essere uno che cammina 20 km al giorno no esatto non devi avere particolari allenamenti e che altezza arrivi? beh arrivi con l'impianto con la Skyway arrivi fino a 3.480 Punter Bronner dove c'è il rifugio Torino esatto e poi da lì e poi da lì fai una camminata il ghiacciaio è una conca in realtà quindi come dislivello complessivo dipende dal percorso che fai ma l'entry level ti permette di fare intanto una camminata 3.4 che a livello fisico non sai come reagisce il tuo corpo se non ci sei mai stato poi con tutta l'attrezzatura alpinistica necessaria quindi sai che impari che cos'è una cordata impari a cosa servono i ramponi perché c'è una differenza tra uno scarpone da montagna e una scarpa da trekking ad esempio è una cosa che molti ignorano completamente cioè c'è più c'è le punte di ferro la Skyway la conoscete? no la Skyway parte da N3 appunto da Courmayeur da una frazione di Courmayeur in due tronconi ti porta a 3.400 e c'è un rifugio e tendenzialmente c'è anche un passaggio un tunnel che ti porta a mangiare quindi tanti hanno è un'attrazione turistica molto molto classica ah sì ho capito ho capito ho capito e quindi è nuova è aperta qualche anno fa sì permette di accedere ad un ad un territorio alpino ma anche volendo con i tacchi a spillo esatto sì 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 e ci sono tanti articoli dei giornali che poi hanno parlato di questa di questa lotta tra i puristi che dicono in montagna avviene gente che sa come si vive in montagna lo Skyway invece ha permesso veramente ai tacchi a spillo di andare a 3.400 e mangiare magari il sushi esatto quello no questo per noi ad Andermatt qua in Svizzera cioè qua in Svizzera dove siamo noi in Svizzera c'è un rifugio che puoi mangiare il sushi no no infatti ci sono un po' in desilca lì sarebbe perfetto però la cosa bella è che è stata che appunto lui ci contatta questo personaggio di Avellino Avellino adesso non è che è simpaticissimo non voglio prenderlo in giro anzi è proprio era proprio di corazón comunque ci chiama ci spiega con un suo piccato accento napoletano intanto ha chiamato tutti esatto poi l'ha seguito Paolo però ha chiamato tutti numeri possibili tutti numeri possibili poi ha parlato con me e mi ha spiegato tutta la sua storia che lui lì ad Avellino lui è appassionatissimo di sport all'aria aperta corre un sacco eccetera e lì a Avellino però non è che ci siano grandi colline o montagne e una delle poche colline dove lui si allenava era una collina adesso come quella di Falchera ok quella di la collina della Monnezza esatto era una collina artificiale fatta di di più di detriti e lui si allenava facendo dislivelli su questa cosa e si stava preparando a fare questa escursione quindi io gli ho spiegato tutto lui voleva sapere davvero tutto si voleva appassionare all'attività al telefono e lo sentivi proprio caldo per venire su poi con l'accento napoletano che ti trasportano in un loro mondo e alla fine ci siamo ci siamo riusciti a organizzare la cosa siamo andati a prenderlo all'aeroporto alla stazione perché arrivava da Avellino e Riccardo è andato a prenderlo e lì anche nel viaggio dalla stazione a Courmayeur montava amici amiconi siamo diventati amiconi eccetera considerando che questa persona non ha mai vissuto né visto le Alpi e ha preparato un'esperienza del genere intanto nella cordata a cui ha partecipato è risultato uno dei più bravi efficienti corretti che seguivano tutte le regole che ascoltavano la guida alpina che di fatto poi è il grande maestro che ti dice che cos'è un crepaccio ad esempio ti fa provare anche l'ebbrezza di caderci dentro simulando una caduta però per farti capire a che cosa serve una cordata a cosa servono i ramponi eccetera le picche tutte quelle robe lì sta di fatto che fa questa esperienza finisce tutto ritorna ad Avellino ci ringrazia a me inizia a mandare un sacco di messaggi su whatsapp vocali lunghissimi pastiere pastiere via whatsapp pastiere via whatsapp sta di fatto che dopo un po' di tempo che ci racconta ci messaggiamo sparisce un po' perché poi era finita la stagione entra in lockdown anche lui e quest'anno si sta preparando per fare il monte bianco proprio la vetta del monte bianco per dire che alla fine ti trasmette i clienti del vertical life poi se riesci ad avere almeno noi abbiamo un approccio molto umano cerchiamo di creare sempre il funnel che ti permette di fare tutto in un attimo online però poi senza un aspetto umano il vertical life non esisterebbe parlavi di digitale prima tu noi siamo un ibrido in cui la parte umana noi stiamo tantissimo al telefono con le persone ma volentieri è il piacere di sto lavoro più che star davanti non fai l'excel torna la gente sì quello è bellissimo è la soddisfazione più grande perché poi lo fanno ovviamente perché ci sono le alpi che ti permettono proprio di crearti degli obiettivi nella vita quello è bello e poi perché credo spero che risultiamo anche un po' terra terra cioè buona mano nel senso il mondo si considera sempre il mondo della montagna come le guide alpine che sono dei personaggi di elevatissimo a livello culturale ne sanno tantissimo di montagna chi più di loro però a volte un po' settari però a livello sociale sai non è che proprio hanno quell'intelligenza emotiva esatto e sono lì abituati a stare sotto però da un punto di vista carmico visto che il tema insomma siamo anche in sensibilità noi sono anni che adesso quando ci capita lo facciamo volentieri ma ci arrivano magari oggi è arrivata una richiesta per una coppia che vuole fare arrampicati in costiera marfitana domenica succede che magari arrivi qualcosa per San Vitolo Capo tante volte noi non rispondiamo no a prescindere anche se non alla fine non lo vendiamo noi mettiamo in contatto chi si da quel punto di vista per noi è una missione è una missione che le persone facciano queste cose qua si no no per noi quella è la chiave di tutto perché se fosse tutto monetizzato ne abuso subito io voglio fare due cose allora la prima voglio dormire nella tenda all'aperto in un posto tipo quelle lì che avete fatto vedere prima Val di Meia Valmaira cioè che sembra un po' la Scozia se ce l'ho ce l'ho ce l'abbiamo c'è che un paio di di posti dove tipo beh tu vuoi andare proprio in Valmaira no voglio andare in un posto così però cioè che ha quell'atmosfera un po' da Scozia tutto col verde che dormi nella tenda di notte e ti svegli e non ci sono i lupi i lupi sono ovunque i lupi sono bravo i lupi sono scesi a 750-800 metri ormai e sono risaliti dall'Abruzzo e può capitare che ti girano intorno alla tenda di notte abbiamo anche degli generali di trekking sulle tracce del lupo c'è un wolf trail esatto sulle tracce del lupo alcuni maliti andate proprio a cercare si si poi te ne porti uno a casa col guinzagli perché non fanno niente vero no ma quelli dicono no adesso arriva Sada andiamo no hanno più paura loro però anche gli orsi si stanno un po' allargando pian pianino sono ciccioli sono più grossi no ma l'orso invece vabbè l'orso è già un po' più pure io sull'orso non so dirti perché tutta la parte del trentino è di là noi la conosciamo facciamo anche dei bei degli itinerari ma non con gli orsi anzi sono tre le cose che noi dobbiamo fare tra l'altro una dobbiamo farla insieme però la dico alla fine l'altra cosa ho visto un video di youtube che mi ha veramente emozionato che prima o poi vorrei fare questi tizi che ti in alaska praticamente ti prendono su un idrovolante sali vai e vai nelle zone più remote dell'alaska e scendi e fai pesca al salmone aspetta pesca al salmone appena che sta nelle acque appena sciolte del ghiacciaio quindi sono quelle un po' sai bianco opaco li pescano delle bestie così li cucinano sul ghiacciaio e si li mangiano appena pescati e voi fate la stessa cosa con le alpi no quello ragazzi è una bomba c'era il tizio che dice c'era il tizio che spiegava il sapore che avevano ovviamente quei salmoni appena pescati in alaska appena cucinati non puoi immaginare cos'è quindi tenda salmoni e la terza cosa e noi vogliamo fare un altro cammino perché noi l'anno scorso abbiamo fatto il cammino due anni fa allora ce l'ho due anni fa abbiamo fatto abbiamo fatto metà no un terzo no un quarto no no molto meno un quinto due da per mezzo del cammino di san benedetto in umbria e vogliamo rifarlo san francesco no no san benedetto san benedetto cassa si intersecava con quello di san francesco non abbiamo fatto tu stai dicendo materaleuca no no io sto dicendo un altro se vuoi fare in italia si cioè di queste i salmoni non si ma con tutto insieme in italia i salmoni non li siamo i salmoni tende esatto tutto nello stesso passa un carrefour questo il salmone te lo lanciano e tu lo devi prendere dal volo il salmone no però la pesca così si io ce l'ho pesca di trotta beh ma si può fare in italia il salmone è impossibile in italia non esiste il salmone no però un pesce vero quanto dura quanto dura le trotte beh sono una settimana almeno una settimana due giorni hai detto cammino trotte pesce ci sono questi ragazzi che tra l'altro dovreste contattare ma non vi cagheranno perché sono molto settari questo sito che si chiama anonimacucchiaino punto com che fanno pesca a spinning cioè con pesca artificiale certo e praticamente sono fighissimi loro vanno in giro e fanno queste vacanze cioè weekend di due giorni dormono fuori o magari anche in giornata e vanno a pescare in questi laghi non dicono mai dove sono andati perché sennò poi viene sputtanata la location ma io li becco però lui gli mando le foto e lui riesce a capire dall'inclinazione delle montagne architettura valser vedi una cosa e tracca e trova il lago cazzo quindi dove ci porti allora secondo me uno degli itinerari più selvaggi che ci sono in Italia è il pollino è il selvaggio blu è il selvaggio blu è un trekking in realtà attrezzato clamoroso che c'è nella zona di Baunei Calagonone parti da Baunei arrivi sulla zona di Calagonone dove ci sono le grotte sotto del buo marino però dov'è che peschi lì scusa? vabbè peschi torrenti nel mare a parte i torrenti vai nel mare mare sì sì mare sì ah perché hai cercato di unire tutto sì sì lì è figo sì è bellissimo no lì è veramente selvaggio perché poi tra l'altro sempre per parlare di turismo come è che si chiama il sentiero blu selvaggio blu ma è lungo lo frazioni perché ci sono dei pezzi ipertosti una settimana dura e dove dove si dorme? in tenda eh no tu mi hai chiesto la tenda io ti do la tenda ah tu mi hai fatto una crasi di tutti chiaro allora vedi beh è interessante no la cosa un esempio ad esempio della differenza tra turismo classico e turismo outdoor si esce fuori ad esempio in itinerari di questo tipo se tu cerchi il selvaggio blu tantissime agenzie vendono il selvaggio blu nessuna vende il vero selvaggio blu perché è rinomato a livello internazionale come percorso però poi a farlo davvero come in maniera selvaggia sono poche le sono pochissime le organizzazioni in grado di poterlo fare il vertical life è una di queste e dove si dorme ti devono portare l'acqua ti portano l'acqua ti allestisci tu ogni sera il campo quindi fai tu insieme alla guida ti fanno fare proprio accensione del fuoco veramente molto in to the wild che spettacolo stanno venendo per chi ci segue su spotify stanno guardando le immagini da non fare ad agosto no 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 assolutamente ma neanche a luglio cioè fa caldo fuori stagione il turismo outdoor ha delle stagioni completamente diverse al turismo classico sempre cioè quando c'è e se uno volesse fare l'outdoor ad agosto che può sorrere ad agosto dove si va? in Italia sulle alpi sulle alpi si fa l'alpinismo lo fai però non è insomma tante cose si disattivano tutta la parte perché arriva la massa tutta la parte legata adesso sicuramente prenderanno sempre più piede ma tutti i trekking costieri no? quindi tutto il Sintero Azzurro Liguria Cinque Terre Costiera Amalfitana Sardegna vivono tantissimo e sono tra l'altro da anni da olandesi belgi eccetera aprile maggio così come la stessa Isola d'Elba ottobre novembre e queste queste località tagliando fuori le classiche vacanze italiane finale Ligure ragazzi è un caso da studiare a livello mondiale perché finale Ligure perché fino a 4-5 anni fa praticamente il 100% delle entrate turistiche c'erano da maggio a settembre prima con i tedeschi o il nord europeo e poi con gli italiani che venivano a fare attività a fare vacanze adesso invece hanno stravolto hanno stravolto tutto la parte interna quindi l'entroterra la zona più rurale fatta di sentieri per fare trekking la mountain bike c'è una 24 ore di finale che è famosissima a livello mondiale tant'è che anche i brand outdoor come Patagonia sono tutti se voi andate a finale Ligure vi fate un è come andare in via Roma è come andare in California probabilmente è proprio una boutique dell'outdoor che hanno tutti più grandi ma cazzi io avevo la casa a Loano l'ho appena venduta non dov'è non dov'è per l'altro finale Ligure è un lungomare bellissimo con le palme con i vari gotti tutta quella zona lì c'è quella spiaggia lì fighissima si sa che il Piemonte marittimo esatto ma quando è l'annessione non lo so tu che segui c'è un referendum in corso però è grosso vantaggio la cosa assurda è che finale Ligure poi ha fatto dell'outdoor il turismo ha voluto concentrare tantissimo le energie sono state avanti hanno creato ad esempio banalmente nell'entroterra dividere i sentieri di trekking da quelli di mountain bike ecco uno dice vabbè sempre sentiero no cosa che manca a Como e hanno trovato con una soluzione del genere sono riusciti davvero a attrarre squadre internazionali agoniste che vanno lì allenarsi a dicembre perché lì c'è poi anche un microclima particolare per cui il freddo che c'è a Torino a dicembre non è quello di finale Ligure è totalmente diverso che figa e hanno occupato hanno dei livelli occupazionali sono passati davvero a quasi la totalità dei mesi ma adesso fanno più incassi a livello proprio di aziende di finale Ligure da ottobre a maggio che da maggio ad agosto ma ancora gli italiani no? ancora solo stranieri? no no noi lavoriamo solente adesso anche gli italiani ma ripeto è un esperimento riuscito che noi cerchiamo di portare sempre guarda infatti prendo come spunto questa cosa di fine Ligure per passare anche un pochino a quello che è un argomento super in voga adesso che è il turismo di prossimità cosa le persone potevano o non potevano fare durante le zone di qualsiasi colore entro i 200 metri o meno noi sono 12 anni che promuoviamo il territorio della città di Torino in mille modi tra cui attraverso alcune competizioni non agonistiche di trail running e di mountain by cross country tra città e collina la collina di Torino ha oltre 700 chilometri di sentieri ed è davvero a ridosso del centro città perché la centralissima piazza Vittoria e il parco del Valentino sono proprio lì e sono i gate l'ingresso per entrare davvero in un'ambientazione che in 5 tornanti ti portano sostanzialmente in un'ambientazione montana quello che stiamo facendo come Vertical Life anche con l'anima un po' più associativa perché poi c'è anche quell'aspetto un po' più sociale che portiamo avanti con iniziative di questo tipo in accordo con alcuni super iper appassionati di mountain bike della città di Torino e la città di Torino di in qualche modo fare un mestiere era analogo a quello che è stato fatto a Fine Ligure quindi dare una sorta di leggi di leggi a come di regole da seguire anche per un'educazione assolutamente l'appendino vi ascolta l'appendino non penso non so chi è l'appendino non è il sindaco ah sì no 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 sono molto devo dire la verità la città di Torino è una città che per meno da quando noi in questi ultimi dodici anni abbiamo avuto a che fare con loro sono sempre stati molto molto propositivi infatti avete fatto delle cose pazzesche perché la gente non lo sa la gente non lo sa avete fatto la teleferica sul Po dodici anni fa dodici anni fa il triathlon cittadino Vertica City Race che in cosa consiste che vengono da tutto tutto il mondo era una specie un pre Ironman però a team perché c'erano era team di tre persone si faceva pensate per legare anche il concetto della collina di Torino facevi circa 700 metri di sdivello e 25 chilometri di corsa per andare a quello della Maddalena a piedi e scendere poi andavi in bici a Superga poi scendevi e c'era una sezione di kayak sul fiume c'era una teleferica quindi una zipline che percorrevi al contrario per poi lasciarti andare un'arrampicata sulle pareti dei Murazzi i famosissimi Murazzi di Torino è una sezione di Orienteering cittadino cittadino con mappe mute che ti dovevi orientare questa 2010 2011 2012 tre edizioni bellissimo e poi non avete più potuto otto anni abbiamo fatto abbiamo diciamo puntato sulla TVB sulla Vertical Bike che è appunto una gara di cross country che il primi anni c'era anche il buon Riccardo ancora che era residente in Italia insieme a lui guardavamo sentieri anche un pochettino un po' fuori dagli schemi ma abbiamo fatto la prima edizione con un passaggio sulla pista dell'ingotto con tornanti annessi però diciamo che mischia l'outdoor cittadino quindi con discese scalinate a quello collinare veramente è diventata molto più ben concentrato e quello ha aiutato un po' a dire possiamo valorizzare ancora la collina lo sport ma è una necessità perché c'è chi abita ridosso della collina che va a piedi con il cane che ha voglia di godersi la sua passeggiata in solitaria col cane chi va in bici deve avere la possibilità di andare in bici in sicurezza è stessa cosa che invece voglia di farsi dei pezzi di terranico di trekking perché effettivamente davvero dà un sacco di possibilità e in qualche modo stiamo cercando di ricreare un ecosistema simile a Finale Ligure perché oltre a valerne la pena davvero è un io ricordo ho stato in Tasmania due o tre anni fa e c'è un parco più che un parco c'è una città ai limiti di un parco che si chiama Lanceston e la collina è veramente uguale a quella di Torino e c'era un cartello lì era anche simpatico ride or die e sostanzialmente era un sentiero a uso esclusivo dei bikers esatto ok noi a Torino abbiamo il sentiero della nostra vertical bike che in qualche modo dovremmo destinare ride or die io ho abitato sei anni a Bruxelles intorno a Bruxelles c'è una foresta si chiama fore des soign e loro hanno addirittura tre tipologie di sentieri anzi quattro perché c'è per chi cammina per chi va in bici per le macchine perché ogni tanto passano delle macchine e per chi va a cavallo e sono tutte segnate quattro tipologie se sbagli sei fottuto perché ti trovi un cavallo ma non inventi niente di nuovo però voglio dire ci sono un sacco di esempi virtuosi è cultura è cultura dell'outdoor noi dobbiamo crearla stiamo sforzando tantissimo il farlo ci piace ecco noi siamo sempre autocitazionisti quindi parliamo sempre del nostro rapporto ibrido tra l'Italia e la Svizzera perché abitiamo in questo territorio di mezzo ed è scoraggiante e deprimente vedere cosa succede quando vai a passeggiare e per sbaglio entri in Svizzera e tutto è perfetto i cartelli sembrano appena appiccicato il giorno prima tutti i sentieri sono indicati il cellulare ti dice guarda che sei arrivato in Svizzera puoi scaricare questi sentieri ci sono delle differenze pazzesche c'è tanto da fare però è un bene che sono già bravi essendo gli albori diciamo che è un vantaggio c'è spazio per non essere vantaggio perché puoi crearla da zero è una cultura che non c'è quindi poi è uno degli altri modi di vedere le cose negative in modo positivo certo a voi vi dà una ragione di vita esatto dall'altra parte però poi è la ragione di vita che però non sempre poi ti dà insomma l'energia da qualche parte la devi prendere quando riparti sai di dover partire da zero dopo un po' inizia davvero per noi viaggiare all'estero vedere come è concepito l'outdoor all'estero per noi quelle sono le energie che ci portiamo a casa per poi arrivare in Italia e dire quelli sono stati i nostri erasmus veri abbiamo viaggiato abbiamo cercato di portare perché poi noi siamo un gruppo adesso ci siamo io e Paolo ma c'è un gruppo di fondatori di Vertical Life saremo intorno in Svizzera mi ricordo addirittura alcuni sentieri dove avevamo l'ufficio dietro ogni tanto io facevo una passeggiata proprio dietro l'ufficio c'erano due o tre sentieri e mi ricordo che loro ti mettono un segnale all'inizio del sentiero se per caso c'è un albero che è caduto attenzione non prendere questo perché ieri sera è caduto un albero porca troia c'è un monitoraggio e di solito il giorno dopo sparisce viene tolto sparisce l'albero proprio lo tolgo in tempo zero ma lì dipendenti comunali io sono stato sovente in Svizzera ma anche in Austria ce ne si sono proprio pagati hanno l'omino del comune noi eravamo a Bissone ma a Bissone abitanti effettivi saranno 200 ci sono due ragazzi poi loro hanno questa cosa dei ragazzi studenti che d'estate lavorano per le cose del comune cioè non so come dire c'è un servizio civile sì pitturano tutti i garrel delle strade che sono tutti punti il cantoniere che li puoi leccare poi hanno l'omino del comune che nel caso di Bissone è piccolo quindi era uno se no nei comuni più grossi se ne è di più che non so come dire la dico alla brutta un po' come il custode il portinare il condominio apre e chiude il parco la mattina e la sera sa tutto infatti io chiedevo sempre a lui dicevo ma senti ma se io voglio arrivare a Campione d'Italia è meglio che vado no guarda che se vai su è caduto un albero vai di là c'è una presenza nel territorio pazzesca comunque in Svizzera io vi ricordo che lavano e spolverano i cartelli stradali e i semafoni vi racconto questa parlando di mountain bike la vertical bike è una di queste gare che non competitive che facciamo tuttora c'è il parco Leopardi a Torino è un parco che parte proprio dal lungo Po quindi dove c'è il corso Moncalieri insomma e parte proprio dalla strada con una serie di tornanti di solito questo parco è super frequentato da cani e padroni di cani che vanno a fare la passeggiata e insomma fanno i loro bisogni è un parco bisognerebbe in Svizzera sicuramente non ci sarebbero poi i regalini le patacche lì sì però vabbè parco frequentato da cani con padroni di cani il giorno della gara e questo è successo ogni edizione su otto edizioni in accostante otto volte noi la sera prima perché poi la gara è al mattino presto quindi proprio perché così evitiamo anche di rompere le scatole si fa spesso anche per le corse e avevamo bandellato cioè delimitato il percorso di gara che partiva aveva una parte nel parco Leopardi considerando che per noi la bandellatura era alberi fai un nodo cioè non continua non continua non era un corridoio definito erano semplicemente di tante bandelle appese agli alberi che fa capire il percorso che fa capire come nei sentieri cioè come il rosso e bianco e quindi facevamo queste bandelle la sera prima mezzanotte tipo quando proprio non stavano sicuri che non c'era nessuno la mattina partiva la gara di solito alle otto del mattino partiva tutti strappati incredibilmente spostati no incredibilmente i simpaticoni i cani non i cani i padroni dei cani i cani i padroni cani che c'è un tema che la colina di torino purtroppo è per parte comunale del demanio è per parte è proprio piena di strade private di gente e quindi sta di fatto che ogni edizione ce l'hanno o tolte o parliamo dalle mezzanotte alle sei del mattino infatti per contropsychologia gli ultimi anni li mettavamo sbagliati così loro ce le mettevano a posto loro il giorno dopo ma comunque prima avete fatto una grande lezione di business nel senso che no lo hanno cos'era? finale Ligure non ricordo un gatto e finale Ligure hanno praticato quella che è la principale lezione di business e voi lo state facendo con l'outdoor manca qualcosa cioè io ho un ristorante e tutti i ristoranti intorno a me non fanno la pausa pranzo dicono la sordità e dici e se io apro in pausa pranzo magari trovo dei clienti bisogna fare proprio quella cosa lì non ci sono servizi a door tu pensi che non ci sia mercato ma non c'è mercato perché non c'è servizio siamo in quella Loano ha fatto questo finale Loano Ligure Loano Finale Ligure ha fatto questo ragionamento ma come posso avere gli hotel pieni bravissimo tutto il resto del mese il mare non si può usare cosa abbiamo d'altro abbiamo delle belle cose naturali lo stanno facendo anche giù in Costiera Amalfitana questa cosa dei sentieri lavoriamo giù in Costiera ma ci stanno muovendo no ma ovunque ragazzi c'è la cosa bella si sta svegliando proprio torni a bomba sul discorso Activitaly ma perché ci mette in rete con guide su tutto il territorio nazionale legambiente è che ovunque è così tanta gente dice voglio fare ma non sono capace e a chi mi faccio riferimento come c'è come ti cerco come ti ritrovano oggi esatto come nel vostro caso vertical life google io google però uno dice voglio sentiero perché tanti poi fanno il fai da te perché vedono l'articolo del blog cioè qual è la keyword guide ecco tipo io ho letto sul vostro sito che cosa vuol dire self guided self guided significa che lo fai per i fatti tuoi che non è guidato noi facciamo sia self guided che guide e nel self guided cosa fate? noi ti diamo i servizi ti diamo la prenotazione di servizi e le mappe ah le mappe ti diamo le tracce di solito con un telefonino in offline funzionano comunque fico e così hai tutti gli strumenti per tutto siamo ancora nel novecento quindi gli facciamo anche arrivare nei rifugi la cartina la cartina come una volta gli facciamo spedire dalla libreria della montagna dalle istruzioni di tutto e poi te lo fai da solo tu hai i rifugi o bed and breakfast che siano prenotati fai un giro prenotato in realtà è talmente self guided che ci sono molti sentieri che non siamo noi a segnalarli noi ti diamo il punto A il punto B è una serie di sentieri che sono percorribili ti portano dal punto A al punto B sei tu proprio perché self guided sei tu che un po' devi sentirti interessato a scegliere qual è il migliore per te quindi è a metà tra uno che cioè c'è quello che è totale in autonomia cioè però quello che dice sì magari totale in autonomia no ma neanche bravo quello guidato con il gruppo perché un po' mi sono arrangiare perché se capita qualcosa tu hai un numero di tele immagina di essere uno straniero anche solamente vieni ti fai un bel self guide con il vertical life e c'è qualsiasi tipo di problema sai di avere un'assistenza telefonica H24 e di sentire dall'altra parte del telefono una persona che hai sentito anche prima della partenza quindi hai quella certezza in più esatto che è una cosa fondamentale che crea in noi un po' un ibrido tra l'essere digitali totalmente e l'essere ancora sì poi soprattutto incontri quel tipo di di persona che appunto come dicevi tu ma io tour guidato figurati se devo pagare uno il problema poi anche lì sappiamo ci sono quelli più che devo pagare uno siccome ci sono quelli un po' come si dice sociopatici ma chissà poi chi mi becco del gruppo il milanese paranoico ci sono anche i self guide di gruppo ah ok vabbè comunque ci sono siamo avanguardisti cioè tu crei un gruppo dai le istituzioni boom andate però questo è avanguardia non esiste questo siamo un reality show c'è una ci sono degli esperimenti ma non riuscivi abbiamo fatto qualche che arriva vivo precoriamo i tempi proviamo in qualche modo a farli no la cosa la cosa bella è che lì incontri diciamo questo che l'outdoor crea tutta una serie di limiti di conoscenza quindi di accedere a certi tipo di informazioni che su che ne so il tour di Roma cavolo ormai c'è tutto c'è quello virtuale quando tu arrivi nel parco del gran paradiso è vero che potresti prenderti la mappa del parco del gran paradiso e dire ok provo a scegliere un itinerario di sei giorni qual è il migliore qual è il migliore qual è il più a livello paesaggistico quello che ti stupisce di più quello che ti fa vivere l'esperienza con i camosci che si incontrano con insomma è una questione che difficilmente o ti leggi ti mangi un sacco di libri perché il tema è questo che comunque quello che osservo io che sono invece molto fai da te è che capita che spendo più tempo a studiare un viaggio che è la durata del cazzo di viaggio esatto no ma la componente umana ragazzi è ancora fondamentale che da un lato è divertente perché comunque almeno sapere dove vado però a volte non c'hai tempo no ma più che altro magari mi concentro spoileri sai cioè quando studi molto il viaggio vedi troppe immagini e poi comunque magari mi concentro sulla cultura o sull'aspetto storico geologico di quel territorio ma non su chissà dove andrò a dormire quali sentieri o fare cioè la parte operativa non è male demandare però è anche vero che la componente umana la fa comunque da padrone per l'aspetto culturale cioè tu puoi fare un self guide informarti prima fare il cavolo che vuoi fartelo per i fatti tuoi ma sei con te ad accompagnarti per cinque giorni no quello è una guida del territorio che ti racconta come sono formate le montagne perché è fatta così no beh certo che culturalmente cosa c'è in quel luogo di davvero rappresentativo perché si magari fai anche foraging e ti raccoglie no esatto poi la cosa la cosa bella è quella che si parla di sostenibilità la sostenibilità non è solo ambientale è sociale voglio dire cioè chi ha vissuto è cresciuto lì e vuole continuare a farsi una famiglia o gli dai un supporto oppure vieni in montagna compri il formaggio e te ne vai grazie però se dopo aver comprato il formaggio magari anzi se prima di andare a comprare il formaggio io entro in contatto con la guida che sono 15 anni che accompagna persone o tutto il mondo in quel posto lì magari faccio qualcosa stiamo parlando di ambienti che hanno vissuto la storia dell'umanità molto di più delle città banalmente le città ok sono nate il medioevo ma prima del medioevo c'era c'era l'outdoor Annibale è passato dalle Alpi da qualche parte sarà pur passato dalla Valmaira dalla Valgestura c'è un libro bellissimo di Paolo Rumiz che è la leggenda dei monti naviganti dove lui a largo di Trieste guarda le montagne ipotizza ma c'è l'Italia che ormai in città non esiste più ma c'è ancora un residuo di questa Italia dove si trova sulle montagne allora decide di fare un viaggio lungo le dorsali si fa prima le Alpi in macchina e poi gli Appennini con la Topolino ai 30 all'ora dove incontra tutti i vari personaggi Guccini Capossela man mano che scende e dice sono gli Appennini comunque sia quel posto in cui trovi ancora zone che sono in bilico tra l'essere dimenticate ma l'essere ancora legate alla nostra origine vera certo ma infatti lì parliamo poi di un argomento guarda non vorrei sbagliarmi ma hanno fatto un'azione di marketing incredibile un anno e mezzo fa ma il sentiero Italia il sentiero Italia ha fatto insieme anche al CAI perché poi essendo il CAI molto radicato sul territorio ha dato questa possibilità mi sembra sia circa 7000 8000 è l'alta via più lunga al mondo però parte da Trieste credo arrivi fino cioè arriva fino al sud Italia fino alla Gallura fino alla Sardegna e pezzi del Cammino Italia fanno di fatto una risorsa infinita di trekking di escursioni di qualsiasi livello a cui puoi approcciare privatamente attraverso un tour organizzato perché in mezzo ci sono anche i cammini quindi c'è il cammino di San Francesco piuttosto che altro ed è non è un caso che sia successo tutto quanto comunque nell'ultimo anno e mezzo ma quali sono i cammini che tirano di più adesso a parte quelli soliti ma che tipo di cammini cammino spirituale quello che si fa via francigena via francigena è la più frazionale ma quello che più vi richiedono proprio quello dice via francigena sui cammini di questo tipo la via francigena totale il cammino più richiesto ce n'è uno che vince il tour del monte bianco potrebbe essere in coppia magari col tour del gran paradiso quindi 4-5 giorni intorno al massiccio è quello tra i più richiesti sì assolutamente e invece con le bike con le bici con le bici sicuramente sempre il tour del monte bianco perché ti fa fare Svizzera Italia Svizzera e la Francia e poi il tour della via del sale che praticamente attraversa le alpi marittime partendo da Limone Piemonte e finisce a 20 miglia e quanto ci metti a farlo? 3 giorni e 2 notti e dove dormi? in rifugi in rifugi c'è anche sì un'alternativa con puoi fare 2 giorni anche lì muscolare o pedalata assistita Davide? non c'è neanche bisogno di chiedere 3 giorni e 2 notti dormendo in 2 rifugi che sono l'Allavena e Don Barbera ma si può fare mountain bike e tenda? no troppo sbattimento pesa troppo si lo puoi fare no no lo puoi fare poi torna dopo 3 giorni torni che se nel surf hai male al costato e in bici dopo 2 giorni hai male ma tour con la fat bike? in inverno in inverno in inverno sì sempre a Monte Bianco tour tour veri propri no sono escursioni giornaliere guarda che dritta che vi ho dato no ma perché la fat bike è pesante c'è una gara in Alaska mi sembra che sia ora non ricordo il nome però segui un canale social di una nostra guida insomma qua in Italia c'è una traversata di 10 giorni che si fa con le fat bike ah vedi in Australia? no in Alaska in Alaska in Alaska quindi sul ghiaccio vai 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 sul ghiaccio quindi ghiaccio piuttosto che sì sì comunque sentieri terreni io ho usato la fat bike a Fuerteventura sulle due del deserto è una delle cose più divertenti incredibile è proprio divertente è faticoso devo dire molto faticoso ma divertente beh ma ci saranno le fat bike assistite o sbaglio? sì sì io le ho usate assistite è faticoso pure da assistite sono arrivate anche quelle no però è divertente perché la superficie in cui appoggi ti dà anche più stabilità e ti dà più anche dinamicità proprio in alcune stando attento che sia sulla sabbia immagino anche sulla neve se curvi un po' troppo esatto vai indietro ti ribalti o ti vai indietro fai mille danni però ecco diciamo che è proprio è un mondo a 360 gradi da scoprire quindi oggi magari ti diciamo la via francigina non è spirituale ma il cammino materano qual è il cammino materano? il cammino materano ci sono 5-6 vie diciamo che quello più classico quello che parte da Bari arriva a Matera passando per Altamura passando per l'Altamurgia eccetera eccetera la basilicata trainata da Matera è un esempio virtuoso da prendere per far turismo perché davvero ha saputo vendere la propria eccellenza ricordiamoci che non più tardi in metà degli anni 80 hanno sostanzialmente comprato delle case per chi viveva nei sassi e non è che fossero proprio tutti contenti all'epoca 30 anni dopo invece Matera è diventato un comparto turistico a sé stante tant'è che l'aeroporto di Bari sostanzialmente ha un sacco di clientele che arriva per quello ma hanno creato anche qui un altro micro ecosistema intorno a Matera che ti permette di fare escursioni di due giorni nelle murge ti permette di andare verso le Dolomiti Lucane di fare le fatte quelle il tanto fantomatico basilicata cost to cost come nel film di Papaleo che in realtà non esiste però puoi fare da Matera a Maratea quindi la basilicata è davvero diciamo che al pari di un finale Ligure però con una declinazione un po' più culturale si è tirata dietro anche tutto il turismo attivo tant'è che il Cycle Summit quest'anno molto probabilmente verrà fatto a Matera cos'è il Cycle Summit? è un praticamente a livello europeo si fa un summit in cui si condividono una serie di informazioni sviluppi turistici legati al mondo del cicloturismo leggevo dei dati mi sembra palesemente anche quello il boom del boom guarda ci sono dei dati tutti fanno cicloturismo nel senso da quando l'anno scorso mi sembra Giovannotti ha fatto questo video in Patagonia tutti poi è venuto qua Temporelli che è uno scrittore divulgatore scientifico che ha presentato il suo libro Andati in Bici quest'estate ho sentito che Radio DJ Linus e Nicola fanno il programma in bici questa cosa voi proponete viaggi itineranti in bicicletta di cicloturismo allora lì la definizione sono definizioni un po' esatto sfumature noi siamo particolarmente legati al mondo della mountain bike o gravel adesso un pochettino quindi strade bianche o dei rali e mountain bike il cicloturismo è un cicloturismo che si è sviluppato negli anni tanto perché sempre gli stranieri non gli italiani anche di una certa età avevano gambe e soldi per potersi permettere appunto dei itinerari anche lunghi tutti in Italia dove sostanzialmente arrivavi la sera dopo 100 km di bici fatta su strada mangiavi il miglior cibo del mondo bevevi perché soldi dici perché beh perché comunque mi facciano lunghi perché anche visto che lui dice giustamente è stato il concetto di cicloturismo è stato portato dagli americani dagli anglosassoni tour operator storici stranieri che in qualche modo grossi a turismo classico vero ciclismo classico ma come back roads come altri tour hanno fatto il turismo che in qualche modo facciamo noi molto prima di noi però è un po' più soft e visto che il target era anziano era anche un po' luxury quindi lo porti nell'agriturismo Toscana bravissima come piace a me che noi abbiamo fatto il cammino di San Benedetto però Infinity Pool siamo finiti in un agriturismo in Umbria che era la cosa più bella che abbiamo visto solo i letti io in un letto così comodo erano tutte cose scavate nella pietra però ragazzi i dati del cicloturismo sono incredibili perché ora non mi ricordo i numeri precisi 5 milioni e mezzo conto 3 o 3,5 di occupazione in più rispetto al turismo di crociera cioè tanti anni fa la crociera era impossibile invece il cicloturismo oggi lo supera di un quarto ha fatto una rincorsa incredibile e la parte dei sentieri dei cammini dell'escursionismo si sta affiancando a questo sistema si parlava prima di soldi perché una delle caratteristiche è anche uno degli sprechi enormi che a noi creava anche un senso di insoddisfazione un po' di rabbia anche era che proprio perché esistevano questi grandi operatori stranieri che venivano in Italia faccio un esempio per farvi capire un operatore olandese ha acquistato un hangar enorme un hangar dove depositare più di 800 bici perché loro da giugno a settembre avevano i loro olandesi da portare avevano le loro bici comprate da loro e canavese le stipavano le stipavano e facevano i loro itinerari con le loro guide la loro organizzazione e questo aveva un impatto nullo sulla filiera italiana a meno che voglia considerare il cibo però voglio dire adesso e quindi a noi ha creato veramente un disagio forte all'inizio dire ma è possibile non c'era forse non c'era la cultura non c'era la cultura non c'era gli operatori non vedevano in quello un mercato ma poi al confronto dei primi anni quando noi facevamo un po' di 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 ricerche di mercato per capire anche quali erano certi prodotti eccetera ti rendevi conto che sei giorni un itinerario di una settimana venduto da un operatore olandese aveva un ricarico mark up ma proprio più tre quattro cinque volte il valore stesso del viaggio quindi stiamo parlando è vero luxury però per un olandese luxury vuol dire anche un hotel tre stelle in Italia dove però ti fanno una buona carbonara perché per loro quello è un russo era un'azienda che aveva il monopolio se vuoi fare sta cosa ovviamente e quindi paghi quello che devi pagare gli italiani non giù arrivano avevano davvero dei prezzi esagerati gli americani che adesso purtroppo hanno smesso di vendere viaggi purtroppo però mi dispiace tantissimo ho smesso di vendere viaggi in Italia però vendevano davvero la costiera ligure le cinque terre sette giorni di cinque terre a 6.000 dollari che voglio dire 6.000 dollari concepisci in un attimo 7 giorni più sfavorevole comunque sono 5.000 euro dai non aveva senso e vedevi le strutture mi ricordo non so se sono loro ma sono loro che quando ero in Toscana mi raccontavano che c'erano questi tour operator americani che praticamente ti organizzavano un viaggio in Toscana in bicicletta a strade bianche così con incluso tutto un servizio di shopping di prodotti tipici e loro praticamente andavano in giro in tutti i vari agriturismi enoteche cantine ma anche sai cuoio avevano proprio un tour esattamente costruito per comprare di tutto e loro avevano una lista voglio questo 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 ma non è che se lo portano dietro c'è una lista e poi dietro c'è il tour operator che ti compra effettivamente le cose e poi ti spedisce tutte negli Stati Uniti il potenziale quando arrivi a casa sono già arrivate a casa tua i prodotti toscanica quello comunque è un servizio che molti apprezzano come si chiamano gli upselling esatto tutte opportunità che il territorio italiano ti dà agli operatori noi lo potremmo fare più con i prodotti tipici nel senso che giustamente avendo un po' più di prossimità alla mountain bike magari non si passa proprio no però restano sono tutte tasselli sono cose che come sempre ci danno la possibilità e ci è andato perché quando eravamo insieme in centro torino abbiamo visto sto van nero col brand il carrello 25 bici sopra erano questi irlandesi lì poi noi siamo curiosi di natura io dico sempre che la curiosità muove il mondo senza quella ma che cazzo siete più o meno però abbiamo capito chi fossero e in qualche modo ci siamo fatti stimolare dalla cosa per andare sul territorio e c'è un tizio oggi a Moncalvo che sostanzialmente lo conosci che sostanzialmente tu vai a parlare ad Aosta a noleggio e-bike che ho bici muscolari a fa sì ok perfetto gli faccio scusa ma queste bici le prendi tu le guarda c'è Paolo Paul Cretton lui è un mio carissimo amico eh che è di Moncalvo lui aveva un'azienda mi sembra di correggimi ma di tipo Michelin tipo neumatici e niente ha comprato ha comprato negli anni è stato il primo a investire su bici ha comprato più di 300 400 bici e adesso ha dei numeri incredibili non è che trovi i fornitori dall'oggi al domani che ti danno tutto per la zona cos'è lì Monferrato tutto nord-ovest Liguria Piemonte Valle d'Aosta cioè le affitta a quelli che le affittano non c'è più l'esigenza non c'è più l'esigenza di tenere anche per un operatore straniero di tenere ferme 700 bici in Italia lui fa un po' è l'investitore e tu quando hai bisogno ce l'hai da lui ne ha talmente tante che lui ammortizza tu ammortizzi e we win esatto un distributore di bici a noleggio un distributore di bici a noleggio però comunque anche a Fuerte ho visto che funziona un po' così cioè in realtà c'è un'azienda due che hanno tutte le bici poi quando tu vai da affittare la bici loro ne hanno un pochettino ma prendono quelle che gli servono per quel giorno dall'altra azienda e quelli lì hanno economia di scala perché le possono aggiustare correggere è corretto però questo approccio voglio dire anche dal punto di vista economico per quale motivo non c'è nessun motivo di no la cosa assurda è che prima non c'erano fornitori italiani non c'era una una visione di questo tipo adesso c'è actività che ci aiuta anche a a capire un po' più a macro aree a regioni che cosa succede a unificare un po' appunto la cultura dell'outdoor in questo modo poi quello che succederà diciamo che abbiamo cercato di essere dei buoni osservatori negli ultimi dodici anni questo sì soprattutto poi una cosa che ne abbiamo fatto credo un po' a differenza di tanti è di non aver mai concepito la parola di competitor nel senso che è quello che volevo chiedervi infatti perché io mi immagino sai per noi quello è un po' per carattere indole nostra perché non ci piace metterci in competizione con nessuno e lo dico anche dal punto di vista sportivo il surf l'alpinismo sono tutte attività dove non hai un atleta a fianco che compete con te sei tu che competi con te stesso e basta questo in certi casi può essere anche riduttivo magari non ti aiuta a sviluppare un'intelligenza sociale esagerata però un equilibrio tuo personale secondo me è molto più facile raggiungerlo attraverso questo tipo di attività è talmente tanto l'apporto valoriale che mettete in quello che fate che quasi il business è una conseguenza esatto sì e che il fatto che per la fine non vediamo i competitor ma perché vediamo possibilità di collaborazioni allora di allargamento di una cultura che condivisa secondo me non sono sicuro non l'ho controllato questa volta perché a volte faccio finta di sapere le cose ma le controllo prima il cellulare ma credo che competitor derivi dal latino e significhi patire insieme vedi quindi non è uno con cui devi fare la guerra esatto e anche la concorrente è qualcuno con cui corri insieme concorre oggi non ha quella visione lì è un po' ha una visione guerresca è l'altro che vende la stessa cosa che vendo io e non devo assolutamente in nessun modo lavorare con lui no per noi invece è stato esattamente il contrario e continua ad essere così tant'è che la cultura dell'outdoor che vorremmo diffondere in grandi quantità se non arriva attraverso la condivisione di questi valori e di questi principi non arriverà mai perché la guida che tipo no scusi no comunque devo smentire il rigolo la prima volta che non controllo viene proprio dal latino della parola che vuol dire rivalità e rivalità che cosa vuol dire riva riva del fiume però mi piaceva la mia è la più poesia però possiamo cambiarlo la troviamo la troviamo vai voglio andare indietro finché non ho ragione esatto ma perché tanti fanno così l'etimologia viene dal francese è la latina rivalis and the french rivus meaning a person who drinks from or utilizes the same brook or stream as another tutti che beviamo dallo stesso ruscello quindi c'è alla fine già ho ragione ma è un muro ma ve la siete organizzati i tempi erano perfetti noi devi sapere che prima di ogni puntata ci troviamo praticamente verso le 4 del mattino e ci ubriachiamo facciamo facendo le riunioni noi siamo gli esperti esatto facendo le riunioni di redazione ma di che e comunque allora un'altra cosa che mi sono dimenticato che vorrei fare i bagni i bagni ghiacciati i bagni ghiacciati hai rotto ma fatti la doccia ghiacciata no lo dico sai perché sai perché per prepararmi la puntata mi sono studiato quelle che sono le esperienze che adesso vanno di più in America così adesso c'è la moda di sta roba qui e fanno tanti percorsi di gente che uno dei miei amici che saluto Vasco Brondi è cantante cantautore anzi lui c'è la centrale elettrica e lo segui lo seguo su Instagram e quest'estate lui ha fatto tutta l'estate in giro a fare bagni nei torrenti cioè un po' un po' anche come cosa molto noi lo facevamo infatti lui fa meditazione no l'abbiamo sempre fatto da ragazzi in Pemonte almeno è un classico si fa c'è il malone nella stura esatto quando avevi varicocele ma infatti in montagna le famose fiumiciattoli con le pozze d'acqua si si fa barbecue e poi bagni onestamente devo dire una cosa sull'argomento bagni bagni freddi quelli però proprio che vedi il ghiaccio la gente che si si quello ice swimming perché è una tag una tag che spacca ecco e secondo me è un po' esagerata è un po' fake nel senso che poi la dicono come ah no c'è un personaggio su molto famoso vim hof si vim hof quello l'olandese l'olandese di mezza tasca secondo me è un po' un fake un po' fake fake nel senso che poi il beneficio che trai da questo tipo di è un po' esagerato allora portato così all'estremo non lo so però io devo dire che la qualità della mia vita è migliorata non so di quanto da quando ho la passione per l'acqua fredda non tornerei mai indietro ma no assolutamente io sono il primo ma è tutto il processo proprio ieri ho visto su un canale social non ricordo più quale comunque un video che raccontava e spiegava di tutto il processo di avvicinamento ai bagni bagni freddi in acqua fredda quindi è proprio una cosa che parte da lontano da casa tua mentre ti fai la doccia di un'abitudine che tu prendi mano a mano a farti la doccia fredda per poi andare a condividere questa esperienza in natura magari con meditazione e poi effettivamente fai dov'è che l'hai vista questa cosa? non mi ricordo l'ho vista voglio dire anche mi sembra un fail io ve lo dico perché secondo me parte anche questa cosa c'è della gente che vuole andare in montagna sì però mi devi dire ogni giorno dove devo fare il bagno del torrente è la nicchia della nicchia della nicchia non in mezzo alla gente certo ve lo dicevo anche a voi io due anni fa sono stato in Slovenia d'estate anche io ogni giorno c'avevo proprio un richiamo esagerato verso i torrenti era una cosa che mi sa stare così bene però posso dire una cosa vedi è un modo di presentare un'attività che funziona a livello marketing funziona sicuramente meglio perché il canyoning non è nient'altro che sì sono torrenti segui i sentieri dei torrenti per poi buttarti in torrenti per farti scrosciare l'acqua fredda però penso che lì ci sia tutto l'approccio di meditazione esatto infatti ho detto la premessa è in natura questo tipo di approcci molto crudi cioè molto è sempre stato la in Alaska si viveva così sulle Alpi in Russia poi spiegata meglio con un Cristiano Ronaldo che si criogenizza anche le orecchie eccetera diventa tutto più infatti noi abbiamo avuto qua ospite un monaco Roberto Bormolini e prima di incontrarlo io ho già letto i suoi libri lui ha scritto proprio un libro su queste cose e ci sono storie millenarie di monaci che passavano le notti nei torrenti a pregare nel freddo quindi è una roba che è stata ripescata successivamente comunque è bello mi piace anche io mi sto facendo delle belle doccia fredda no ma perché la doccia fredda che ci sta però caspita l'idea di fare trekking a cercare le cascate per esempio anche a Bali no? cioè la moda è quella di fare il bagno nelle cascate e ne abbiamo dietro casa quante cascate abbiamo anche noi dietro l'ufficio in Svizzera no ma infatti lì c'è un mondo lì c'è un mondo turismo di prossimità occhio a quanto è alta sì 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 ok ci sono certe cascate dove non puoi andare sotto ti schiacciano ti schiacciano sono delle lame ti fanno male di brutto però in un percorso di trekking montana dove c'è veramente The Mildfulness dietro dove c'è una parte in cui adesso lo dico forest buffing ma dove abbracci gli alberi voglio dire la Valeria Mosca che è stata qua non serve molto ci ha cazziato c'è nel senso è sicuramente qualcosa che può sembrare oggi agli occhi anche di chi non si è mai non ha mai approfondito un certo tipo di argomenti un po' strano però sicuramente è un qualcosa che tu ne hai parlato inizialmente per dire il tour dei bagni è una cosa che sicuramente avrà un senso magari prevedere in determinati bagno di bosco come i bagni di gong quella roba lì adesso comunque secondo me non c'è bisogno di pubblicizzarlo cioè dire ah questo è il percorso dei bagni ci sono dei percorsi dove ogni tanto per forza di cose c'è una pozza d'acqua e uno dice puoi scrivere una descrizione se vuoi c'è la possibilità di fare un bagno freddo è una cosa perché l'anno scorso ho comprato un libro che è stato un bestseller in Svizzera nel Ticino dove fare il bagno in Ticino e comunque sapete quella storia delle Maldive del Ticino la Valverzasca la Valverzasca in Svizzera praticamente tre anni fa o quattro anni fa dei ragazzi su YouTube hanno postato un video dicendo guardate a mezz'ora da Milano le Maldive di Milano e praticamente questi ragazzi facciamo vedere questo posto meraviglioso basta l'hanno sputtanato per sempre adesso c'è un sacco di gente che va però se va in settimana in realtà non c'è tutta sta gente io ci sono stato sì sì ho capito beh ecco è bellissimo però guarda ecco quello non è quello che intendo io perché questo è il Lido di Milano però in Svizzera questo è l'idroscalo è l'idroscalo non so come dire il vero bagno nella natura deve essere fatto in un luogo o magari due persone come quelle che hai incontrato tu in Valverzasca di sesso alterno o di quello che ti piace posso raccontarla vestite ero in Valverzasca non c'era tanta gente ho detto me ne vado sopra sono salito sul bosco non c'era sentiera niente mi sono fatto anche quasi male ho trovato una cascatella la vedevo vado là secondo me c'è una pozza perché lo vedevi un po' della conformazione vado giù inizio subito stavo sudando caldo vedo il paradiso due ragazze completamente nude che si fanno il bagno che mi guardano e continuano a farsi il bagno io me lo sono fatto di fianco a loro perché forse era un po' troppo aggressivo e questo è il bello della natura una laguna blu l'acqua era freddissima e dopo ho dovuto fare finta di essere un mega duro perché loro erano tranquille io invece iniziavo ad essere bianco cianotico una parte paralizzata comunque sì ragazzi fatelo no ma io sono contento che escano fuori se tu metti forest buffing tour lo so che voi siete più adrenalinici ho trovato un articolo sul forest buffing sul sito della levissima ecco beh giusto siamo già siamo già nel mainstream praticamente ma io sono contento a proposito dell'adrenalinico no no dico davvero sono contento che escano fuori questo tipo di attività anche con nomi mai sentiti ma che poi di fatto perché tanto è tutto outdoor quindi va bene purché se ne parli ah ecco e che si istruisca per farlo bene esatto vabbè questo è un discorso un po' come dire filosofico piuttosto alternativo e hardcore c'è una ragazza una ragazza una professionista che è venuta qua che si chiama Valeria Margherita Mosca che è esperta di foraging quindi raccolta di cibo selvaggio nei boschi eccetera ma anche imprenditrice cuoca comunicatrice divulgatrice insomma tanta tanta roba che era un po' critica sul fatto che questa nuova ondata di avvicinamento alla natura potesse causare non so come dire una una volgarizzazione del rapporto con la natura del tipo se vuoi venire qui a rilassarti vallo a fare altrove nel senso la natura non è la spa cioè la natura è un luogo dove io mi immergo con un rispetto diverso non solo cercando svago ma nel suo caso proprio cercando di essere imbevuto della cultura di quel luogo a 360 gradi quindi non solo cultura nel punto di vista sociologico era molto vivo nel senso c'è la natura lo interpreto non l'ha spiegato così la mia interpretazione delle sue parole era la natura è viva quindi se tu vieni qua scaricare la tua attenzione del tuo stress di merda per il puro semplice scopo di scaricarlo e andartene via cioè comunque la natura in qualche modo l'assorbe vieni qua e la vivi e vivi con la natura anche magari per un giorno ma l'intenzione non è quella vado lì abbraccio gli alberi e gli lascio un po' di merda sacro santo come lettura della cosa ti lascia anche tutti quei presupposti legati al fatto che le masse che in qualche modo diciamo all'inizio le masse che si stanno avvicinando in qualche modo devono essere oltre che educate bisogna essere anche in grado di gestire il risvolto poi che avviene appunto a punti di vista natore sul territorio quindi come in tante occasioni capiterà anche che tanti approcciano non capiscono e tornano indietro buona parte di quelli che approcciano per la prima volta però se presi nel modo giusto e col discorso che faceva questa ragazza probabilmente saranno poi portatori sani di uno stesso principio quindi di immersione nella natura diciamo che è un tema quello adesso pandemia cose varie hanno portato a galla questa cosa dell'outdoor che fa bene a tutti lo stress eccetera le montagne fino a prima della pandemia erano dimenticate c'erano territori dimenticati abbandonati completamente dai giovani e da qualsiasi adesso è giusto parlare dell'effetto opposto però aspettiamo che finisca questa pandemia per vedere poi chi veramente farà quella sorta di downshifting per andare di nuovo a vivere sai che si rincorrono le cose Paolo nel senso sono d'accordo con te ma stanno venendo fuori già queste cose oggi prima ancora che tu abbia la capacità di leggerla nella natura ma è perché esatto perché mi avete stimolato l'argomento è vero che la montagna ha bisogno di un equilibrio e quindi che non la puoi sfruttare non la devi sfruttare perché è da rispettare ci sono delle leggi che vanno al di là che non hanno nulla a che fare col consumismo concepito dalle nostre società però non può neanche restare al di fuori della società perché se è così il destino sarà l'abbandono sarà la la ricerca sì per carità della seconda casa in Valmaira dove mi posso andare a rifugiare dopodiché dagli anni 80 ad oggi le seconde case dei piemontesi in Liguria o dei piemontesi in Valle d'Aosto o dei Lombardi eccetera alla fine sono seconde case che vengono usate proprio con quel modo con quell'approccio lì cioè attacco riscaldamento a 32 gradi perché devo stare un giorno e poi parliamo però delle docce fredde voglio dire concepire il nuovo futuro non sarà quello della seconda casa per il weekend e passare dalle io vado e sfrutto la natura a io vado e dato che sono la natura ci devo convivere devo essere sinergio quella è l'evoluzione quella è l'evoluzione se non succede questo attraverso una cultura dell'outdoor che trasmetta quel tipo di serenità non succederà nulla no no ma ritorneremo desolati sta succedendo questo però eh speriamo che io dico solo che speriamo che si creino problemi di affollamento perché è davanti fronte ai problemi ormai l'essere umano l'abbiamo capito ormai anche a livello planetario o ci troviamo in faccia il problema oppure non risolveremo mai io vorrei avere il problema delle montagne affollate perché la gente finalmente capisce cosa costa valore lo crei solo se poi c'è appunto c'è un'attrattiva attrattiva se no lo lasciamo dimenticato da tutti sei d'accordo no stavo pensando a un libro di due ragazzi ah oggi sei citazione di libro al ritmo delle stagioni un anno di vita in montagna che hanno proprio vissuto questa cosa loro vivevano a Roma lui faceva il designer lei lavorava non mi ricordo dove e hanno fatto woofing in Valmaira o Valstur Valmaira forse in Valmaira e da lì hanno detto ciao questa è la nostra vita l'hanno continuato per due anni e hanno scritto questo libro dove raccontano cosa vuol dire vivere veramente la montagna cioè che si gelavano i tubi in inverno che il falco gli cacciava i polli robe del genere e poi adesso io poi lui l'ho sentito Tommaso e anche lei via Skype per fare un video loro ora vivono in Toscana tra la Toscana le Marche e l'Umbria e la Romagna cioè in un crocevier e hanno preso questo casolare lui l'ha rimesso a posto con le sue mani con gli autoctoni chiaramente poi sono persone che riescono anche a fare proprio comunità ma poi soprattutto la cosa bella è che non solo cioè loro sono degli stimoli per ricosolidare quelle comunità che magari stavano pian pianino cioè veramente questi innesti dalla città di persone che sentono di aver bisogno di qualcosa di nuovo fatto nella maniera giusta porta veramente sì 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 perché loro stimoli anche a chi è rimasto rato sì loro vanno lì con la volontà e la consapevolezza di voler essere lì chi c'è nato non sa che c'è un'alternativa no esatto è lì perché è lì c'è nato non è che vuole per forza essere lì è un'abitudine e questo porta ovviamente alla disgregazione un appiattimento ti arriva questo angelo cioè sono come degli angeli che arrivano e portano una nuova benedizione cioè portano anche un nuovo modo di condividere le tue cose che ormai davi per passate chi ti chiede cavoli ma come si fa il pane ma come si beh c'è un personaggio milanese non so se lo conoscete Paolo Camanni no uno scrittore che si è appena da qualche anno che si è trasferito in in Val d'Aias in Valle d'Aosta e lui ha fatto più o meno un percorso di questo tipo viveva a Milano faceva vita normale da cittadino e poi piano piano si è appassionato forse lo era già da anni ma sta di fatto che adesso si è trasferito lì e ha aperto ha messo a posto una sorta di casolare rifugio e l'esempio è che vuole dare l'esempio attraverso l'accoglienza di non il classico rifugio di montagna per farti la polenta andare a casa ma un rifugio per artisti per persone che hanno voglia di passare del tempo lì fosse anche la stagione per dire sono tutti esperimenti che secondo me in questi anni ne vedremo delle bellissime Luca Mercalli il meteorologo che va da Fazio che ha scritto questo libro salire in montagna che l'ho letto in due sere io dire in Piemonte in Val di Susa esatto c'è un nome straniero il paese Vermont no Vermont sì comunque e lui il libro racconta proprio quello che diceva Giovanni cioè il fatto che lui ha tentato di portare una cultura del recupero della rivalutazione della montagna ma ha trovato come primi nemici gli stessi abitanti della montagna che non avevano quell'ottica che aveva lui ma infatti secondo me l'esperimento non dovrebbe solo essere non è unilaterale cioè non è il cittadino che deve andare in montagna io su questo argomento mi sto facendo un'idea molto ben precisa perché trovo assurdo che nel 2021 ancora non si è così diffusa ma chi vive in montagna deve conoscere qual è l'ambiente cittadino e come viene vissuto è un po' come dovrebbe essere messo quasi come un obbligo per un pastore passare un mese all'anno in città perché apre la mente a tutta una serie di esigenze che invece i cittadini hanno e loro no è una condivisione di modi di vivere imparare un linguaggio per poter anche comunicare bravissimo ed è per quello che dico che il problema delle montagne l'isolamento non è solo perché rimarranno quei quattro montanari e perché per di più quei quattro montanari sono pure incazzati cioè se vedono un cittadino lo trattano anche male perché lo vedono come un un bifol un intruso un intruso ma cosa ne sai te di come si deve guarda c'è un film di Giorgio Diritti Il vento fa il suo giro che parla proprio di questo di un pastore che va ad Elva in Valmaira Ostura e all'inizio porta la novità poi alla fine viene praticamente quasi linciato dalla popolazione perché portava la novità sì c'erano oggi mentre mi preparavo per la vostra intervista ho googolato a caso io parto in questi viaggi con la musica sottofondo e cerco di vedere e mi porta l'iperspazio minchia che parola vintage iperspazio e ho trovato una delle location più assurde del mondo per i viaggi è questa isola che si chiama Tristan da Cugna che è un'isola in mezzo esattamente tra l'Africa nel centro dell'Oceano Atlantico tra l'Africa e il Sud America 200 persone abitano lì ed è stata totalmente isolata durante la prima guerra mondiale per tutta la durata della prima guerra mondiale nessuno è mai passato la fai vedere Mario e durante la seconda no aspetta sì durante la seconda guerra mondiale se non sbaglio ah no c'è stata un'eruzione perché è un vulcano questo hanno dovuto evacuarli quindi li hanno portati a Londra perché è un territorio inglese d'oltremare quest'isola qua anche se ha questo nome in realtà portoghese anche se poi gli inglesi l'hanno poi ribattezzata Edinburgh of the seven seas quindi Edinburgh dei sette mar insomma però tecnicamente è di proprietà dell'Inghilterra e durante l'eruzione questi duecento li hanno portati in Inghilterra e dopo quando è finita l'emergenza potremmi dire vi prego riportateci nell'isola perché noi quando riusciamo a vivere assomiglia a quello che dicevi tu però almeno hanno preso coscienza di che cazzo c'è nel mondo cioè nel senso scusate prima ho detto Camanni non era Camanni è Cognetti Paolo Cognetti Paolo Cognetti lo scrittore è quello del rifugio non mi veniva in mente ho confuso però siete d'accordo che alla fine il valore del territorio siano proprio queste persone burbere che in qualche modo portano avanti portano avanti e insegnano al cittadino cioè la prima esempio che hai fatto tu del libro cioè io sono d'accordo con Paolo quando dice con te quando dici che debbano venire a conoscere anche la realtà cittadina ma forse non tanto non troppo devono rovinarsi ma per me non è quello infatti l'obiettivo non è invadere o far sì che loro siano invasi da quello stress cittadino perché non è quello e però l'integrazione può avvenire soltanto se sia Maometto che la montagna si avvicinano e internet in questo non serve secondo voi cioè nel senso le zone più rurali ora sono connesse cioè in qualche modo probabilmente possono cioè non so come dire non lo so tante tendenze anche nel mondo vostro del turismo sono uno le può immaginare scoprire navigando internet spesso porta una conoscenza posticcia deformata nel senso in questo caso c'è proprio bisogno di esperire un altro modo di vita ma infatti e non perché leggendolo ti arriva solo un pezzo e poi internet abbiamo capito tutti bisogna anche imparare a fruirlo a usarlo quello è chiaro mi immagino uno che ha abitato isolato fino adesso e adesso scopre internet la prima cosa che andrà a vedere saranno le donne nude quindi prima che si informi di cosa succede nella città 56k come è giusto che sia esatto ma certo abbiamo fatto tutti così abbiamo fatto tutti così beh ma negli ultimi 2-3 anni un sacco di iniziative non so se vi è capitato di leggerle di case in vendita un euro sì attraverso cioè queste iniziative qui se non sono supportate poi da un humus che in qualche modo sia quello è il ragionamento si stanno ripopolando molto di più rispetto a prima dopo il covid così come sento sempre di più e ci sono un paio di posti nella vicina Val di Susa Torino che in qualche modo si stanno un po' organizzando come micro comunità cosa ne hai pensato chi sono? c'è un posto in particolare delle parti proprio a ridosso di Torino ci stanno tutti i freelance che lavorano ci sono persone che condividono le proprie professionalità c'è l'idraulico c'è il freelance c'è il panettiè c'è chi fa il pane ma sono delle nuove comuni diciamo però 4.0 cioè dove nel senso hanno un background comunque tecnologico e un riavvicinamento un sacco di nostri collaboratori guide ma Giorgio cioè che è uno dei cofondatori del Vertical si è trasferito ma come si chiamano? non ricordo beh tolti Damanhur dalla parte ci pensiamo adesso loro sono loro sono un caso a sé no ma stiamo parlando di cose molto fresche secondo me devono ancora sì sì sono proprio inizi e indizi di adesso c'è un progetto europeo penso che faccia parte anche del questo famoso recovery fund che investe in Piemonte ad esempio tanti soldi per poter dare nuova destinazione a un sacco di fortini e strutture abbandonate l'obiettivo poi realizzazione non so quando verrà fatta e se è quello di 400.000 flusso turistico di 400.000 abitanti dei popoli nordici che di fatto vivendo sei mesi l'anno al buio possano tranquillamente avendo provato anche loro lo smart working trasferirsi in Piemonte approfittare di queste cose e finalmente giunse il momento in cui si spopolò l'Inghilterra l'Olanda il South working ma che cazzo ci fate ad abitare lì io ci ho abitato per sei anni lui per quattro anni quello abitato a Berlino a Sport esatto ma poi parliamo ci siamo detti ma questi non sono luoghi dove l'essere umano può abitare mi ricordo e poi non tutto l'anno c'era leggevo non so quale libro storico ma gli arabi che hanno invaso l'Europa partendo dalla Spagna sono partiti da sotto l'Andalusia hanno fatto tutto sono andati in Catalogna poi si sono affacciati dai Pirenei hanno guardato il sondo e hanno detto questo non è un posto dove l'essere umano può vivere perché hanno visto le nebbie della Francia e sono tornati indietro ne parla Barbero ne parla Barbero in un podcast che dice non mi ricordo più quale invasore che sì gli arabi che allora nella storia occidentale c'è scritto e poi non l'abbiamo scoffitti poi quando leggi la storia da parte dei araba questi dicono ma che cazzo siamo arrivati ne ho detto dove vogliamo andare no no loro hanno detto questo non è un luogo abitabile dall'uomo esatto giustamente guarda il cambio culturale cioè la differenza culturale perché poi alla fine lui parla di 400.000 persone dal nord Italia alla fine gli arabi nord Europa scusa nord Italia nord Europa i vichinghi non si sono fermati sono venuti giù e sono hanno fatto invece gli arabi alla fine si sono fermati non si sono saliti tutto torna e l'animo insomma culturale di una popolazione resta cosa ne pensate dello smart working per quelli che sono le vostre destination turistica crediamo tantissimo le infrastrutture purtroppo sono fondamentali nel senso che se internet c'è allora è tutto legato alla svolta sembra banale dire il PUC è andato a Baleale in Portogallo il Portogallo ha successo ma sono tre case in croce perché hanno un internet della madonna cioè è una cosa in spiaggia io avevo 100 megabit sul telefono dico ma cosa me ne faccio adesso datemi qualcosa da fare con questa velocità no no ma è così purtroppo cioè purtroppo non è un purtroppo è un per fortuna eh ma sto recovery fund figa usiamolo per far qualcosa eh no c'è l'internet lo so che per qualcuno può sembrare poco romantico però vaffanculo il romanticismo non esiste in questi no il romanticismo in questo argomento secondo me non bisogna chiamarlo in causa cioè se sei in una valle sperduta bellissima del Piemonte perché poi il Piemonte non c'ha la spiaggia e il mare è fighissima e puoi stare quanto vuoi per fare il tuo smart working andare in mountain bike oppure fare tre ma se non c'è la linea internet che cazzo fai quindi romanticismo lì 5G ragazzi 5G ma pure 4 ma lì altro che 5G non c'hanno neanche l'uno esatto quindi invece l'anno scorso ero in Salento dici beh Salento non ce l'avevamo avevamo un trullo in campagna mi avevano detto che c'era internet in realtà per avere internet dovevo andare fuori dalla proprietà e io dovevo lavorare a computer no c'è internet internet ma è da qualche parte c'è valla a cercare in paese no ma da un certo punto di vista è giusto che ci siano anche persone che pensano che internet non sia essenziale no però sulla domanda però stanno tutto il giorno su internet esatto perché l'hanno l'hanno imparato da internet no perché quello prima della pandemia stavano diventando famosi cioè famosi avevano un trend positivo i viaggi terrapiattisti no i viaggi the talks tipo internet digital detox sì avevano un nome sì insomma dove non c'era rete non avevi interferenze con l'utilizzo dello smartphone eccetera prima della pandemia sembravano cazzate adesso sono consolidate tra l'altro io parzialmente sarei d'accordo una cosa che penso spesso in questi posti magari di montagna isolati dove avere magari un pezzo di casa adibita a posto di lavoro con internet che spacca nel resto niente nel resto stacchi per aiutarti a staccare assolutamente però dove l'importante è che sia un utilizzo consapevole di internet che se io devo andare a fare smart working me la devi dare poi che sto tutto il giorno là così a giocare a Candy Crash no ma sono masche sono masche Bezos che stanno si stanno dividendo tipo non so se la troposfera o l'astenosfera per praticamente mapparli di satelliti che danno beh anche perché altre alternative non credo ce ne sia beh c'è per avere una copertura globale anche in aree tu puoi prendere tutta l'Africa anche in aree a bassissima densità lo puoi fare solo con i satelliti altrimenti ma Google lo fa con le mongolfiere Facebook sicuramente lo fa con le mongolfiere Google non lo so Facebook è vero Facebook lo fa però non è una cosa che puoi fare in maniera così capillare invece tu metti sai che metti mille satelliti in orbita e quelli ti coprono anche l'Antartide certo è un tema adesso anche lì potremmo parlarne del 5G ma non lo faccio no ma non parliamo infatti noi abbiamo avuto qua Dettori che ormai ha il più grande fondo europeo che investe in start up spaziali mi sa che forse una di queste era per fare internet con delle torrette pazzesche comunque bene ragazzi ragazzi noi questa sera avremo una faraona ma voi avete il treno una faraona ed un agnello di secondo agnello sì a bacchetto di secondo a bacchetto siamo preparati una cena perché la fortuna è di avere questo studio dotato di cucina siamo tutti e di avere anche una persona a cui piace cucinare esatto siamo tutti tamponati e quindi perché non goderci questa serata ragazzi grazie per qualsiasi cosa noi ci siamo invitateci perché se devo essere sincero ne ho parlato spesso anche con Enrico raramente adesso sembra una recata di culo ma raramente ho passato dei momenti così spensierati e come un ricordo di giovinezza come quando abbiamo fatto le nostre experience a Bali soprattutto la prima devo dire non so perché c'era eh la prima quello è stato il momento trasformativo mi ricordo questa cena che abbiamo fatto in questo ristorante sardo con le bombe ma perché detto così dici minchia dopo tutta la roba il ristorante sardo a Bali beh tra l'altro ha chiuso la scorsa settimana no ma per scelte apro una gastronomia però non vi preoccupate meno male che ho mangiato le vongole con la pastina sarda come si chiama con le fregole le fregole le fregole le fregole con le arselle con le arselle brava sì fatte lì fatte lì eccezionale ecco cioè ho degli highlights delle cose e io quando parlo di voi con loro dico sempre io vorrei che loro possano mi invitare ma noi lo siamo in prima sì sì quella sera c'era mi chiesto ragazzi posso essere vostro amico e voi non avete risposto e noi ci rimasto sotto ma vediamo ma no se tu siete guardati mi hanno detto non l'abbia sentito era colpa del come si chiama quello che si beve lì no limoncello gingerello allora voi siete molto simili ai miei amici che sono quelli che vedete qua però un aggiunto in più che siete proprio belli esteticamente ma molte grazie molte grazie molte grazie vabbè infatti vabbè non stiamo a svelare gli altarini però insomma il problema con voi è quando abbiamo le corsiste diciamo di sesso femminile che non ci cagano e che non ci cagano più perché dicono ah allora il tour operator uno si è fregato tra l'altro io Riccardo non capisco cosa è successo nella tua vita che a un certo punto forse ah perché sei stato quattro mesi fermo no ma lui me l'aveva già detto l'ultimo anno a Bali io e lui ci siamo fatti una chiacchierata un bellissimo percorso posso dire un bellissimo percorso mi fa guarda mi sa che metto su famiglia infatti adesso sei papà da quanto tempo da 16 metri un mese 40 giorni posso dire che si vede dagli occhiai o no quelle sono di serie proprio della mia mia famiglia è un allestimento è un allestimento che ho scelto con la nascita così ce l'ho già di no 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 40 giorni com'è belli un trip un viaggio ed è molto interessante perché è una si crea si disgrega all'istante quello che tu eri con la tua compagna fino al secondo prima nonostante fossi incinta quindi una coppia e si crea una triangolazione nella quale si fa una fatica pazzesca a capire che sia ancora una coppia e nel frattempo però sia nucleo familiare e in questo mi sta aiutando molto un libro che sto leggendo che si chiama Naturalmente Intelligenti che ti racconta no che ti racconta in realtà quelli che sono poi i salti cognitivi che fanno i bimbi e come il rapporto anche che tu hai con la tua compagna influenza non solo l'intelligenza di tuo figlio ma anche proprio lo sviluppo fisico del cervello bello ed è una roba che che comunque ti dà una visione totalmente differente da ripeti il nome del libro naturalmente naturalmente intelligenti mi ricordo il nome adesso dell'autore wiki pucca ce lo dice figata beh comunque la cosa bella è che comunque smetterà di viaggiare assolutamente no perché vi dico questo hai regalato la tavola da sotto è la cosa positiva per il business Alessandra del 12 marzo io del 16 marzo e Amaglia è nata il 16 marzo e quindi stiamo organizzando il primo viaggio all'estero per festeggiare il mio quarantesimo è il primo anno della bimba il suo compleanno guardando in Giappone diciamo quindi col cavolo che smetto di viaggiare possiamo venire io ma io mio figlio l'ho portato a Bali l'anno scorso due anni fa l'ho portato dappertutto no ma in realtà non è legenda metropolitana anzi cioè fa bene a loro fa bene a tutti ragazzi vertical life si sta in Italia quest'estate ma si fanno un botto di cose fighe ecco per chi adesso faccio lo spottone finale per chi pensa che possa essere noioso fare delle vacanze in Italia vertical life ti farà cambiare idea perché anzi ce n'è ce n'è a bizzeffe grazie per noi la faraona che ci aspetta hanno vinto il premio comunque abbiamo vinto il premio avete vinto il premio perché non avete siete l'unico ospite ignorante che non ha citato no lo diciamo lo diciamo fuori onda è giusto è giusto è giusto è giusto allora comunque grazie a voi per averci ospitato grazie ragazzi grazie mille come sempre è sempre un piacerissimo tra amici è perché esatto cioè tra amici dobbiamo fare qualcosa per vederci anche fuori faremo lo faremo alla prossima onda ciao ciao ragazzi this was launch il mezzaro tecnico